Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle Oche Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia Prima puntata Bologna, 14 aprile 1948, mercoledì mattina Lei dove corre lei? Chi è? Documenti? Sì, un momento Ecco, prendo servizio oggi Vice commissario ha giunto De Luca a buon costume Vieni qua, lasci passare, non vede? Va bene Pugliese Pugliese, commissario De Luca Pugliese A che ci fate qua a Bologna? E tu, Calvoli, che cazzo fai? Mettere mano addosso non funzionava Mi scusi, non sapevo... No, 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 non fa niente Mi scusi Non sapevo che stavate per arrivare Sono contento, commissario Anch'io Che fate? Venite con noi? No, veramente dovrei presentarmi a questore Ah, il questore è in riunione col prefetto per le elezioni Venite con noi, commissario C'è stato un omicidio Non mi hanno ancora dato i documenti Appunto, dovrei vedere il questore E poi adesso... Adesso sono alla buon costume E allora questo caso riguarda pure voi, commissario È successo in un bordello? Eh, vabbè, vabbè Allora dal questore ci andrò quando avrà finito la riunione Sono contento che ce l'abbiamo Che ne siate uscito Siamo qua Hanno riconosciuto la mia estraneità Ai crimini commessi dalla legione molti Già, già Ma quanti anni saranno, commissario? Quasi tre mi sembra No, 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 tre esatti L'ultima volta che ci siamo visti era l'aprile del... Quartacic Quartacic E il paese non era ancora stato liberato, se non mi sbaglio E adesso pure è aprile Eh, tre anni solo, ma difficili per uno con la vostra storia, no? Adesso siamo qua, però pugliese Ma piuttosto, chi è? Chi è chi? Il morto Lei ha parlato di omicidio Oh, già, il morto Mi dovete perdonare No, prego È un certo ermess Ma non mi chiedete chi è questo ermess, commissario? Perché non lo so nemmeno io Alla centrale hanno preso la chiamata di una donna disperata Urlava che avevano ammazzato questo ermess in Via delle Oche 23 Lo sapete che cosa c'è in Via delle Oche 23? Sì, sì, è un bordello Via delle Oche, è tutto un bordello Ma bisogna che queste cose ve le impariate da solo, commissario Ora siete alla buon costume Bologna è piena di bordelli E adesso sono tutti vostri Bene Commissario, venite con me, venite con me La facciamo un po' più lunga Ma almeno evitiamo il blocco della piazza Con il comitino Sì, la seguiamo Così facciamo prima Perché il bordello? In licenza parlando, dottor Starebbe al 22 Ma sulla licenza è segnato il 23 Che fa parte dello stesso stabile Che ce l'ho tutto ed affitto io Da un signore che però non le dico chi è Perché lei certamente già lo sa Ma comunque Non è proprio come dire il casotto Con decenza parlando E questa è la porta Sì, dottor Sapessi che impressione Io non entro Oh Gesù Ha pesa una trave del soffitto E questo non l'hanno ammazzato Questo si è ammazzato Commissario Io ne ho impressione Io non ce la faccio a guardare Devo chiamare la centrale Per far dire al magistrato Che se la può prendere con calma Anche il dirigente dell'omicidio Può fare a meno di venire Pugliese, Pugliese Vorrei fare una domanda alla signora La faccio entrare Signora, prego, entrate Oddio Oddio, che impressione Vediamo come risponde alla mia sollecitazione Ma che sta facendo, dottor Lo picchia No, no Controllo il rigor mortis Vede signora Vede la mano, è tornata morbida E questo fa pensare che sia morto Dalmeno ieri notte Chi era? Eh, chi era Hermes Ricciotti Ma non lavorava da me Stava dalla, dalla Tripolina Quattro numeri più in giù Di via delle Oche Al 16 Abitava qua perché La casa della Tripolina è così piccola Che ci ha, ci ha posto solo per il personale orizzontale Orizzontale? Insomma, sì Puttane, con decenza parlando La Tripolina non Non ce l'hanno stanza in più per l'uomo L'uomo? 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 Il Serafino Come lo chiamate voi? È quello che dà una mano in casa Che accompagna in giro le ragazze Mette fuori gli ubriachi Insomma, fa un po' il guardiano Hermes era uno che Che tirava di box Vede, dottor? Là Sì Sopra lo stipetto Ci sono le foto appese del ragazzo Ah, sì Qui è con i guantoni Polisportiva popolare spartaco Qui aveva poco più di vent'anni In questa, come sai, è ritratto da partigiano Sul cofano di una 1100 Davanti a un carro armato americano E in questa qua è a bordo di una lambretta Questa foto è stata strappata È rimasto È rimasto un angolo Si vede soltanto il piede di una donna Sì, in un sandalo con la zeppa di sughero Lei, lei come fa di nome, signor? Io? Io sarebbe Conti Evelina, marescial Ma mettete pure Armida Che è dal 1920 che mi chiamano così Comunque no, no No, 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 no Non me l'aspettavo una cosa del genere Era così contento il povero Armessa in questi giorni E una sera mi era pure tornato ubriaco È stato quando c'era il temporale Cos'era, domenica? Siete sicura? Io mica me lo ricordo il temporale Eh, sono sicura, sì Le finestre davanti, quelle sulla strada Devo tenerle chiuse per l'ingi Ma l'atrio lo tengo che dà sul dietro E da lì si vedevano i lampi No, no, è stato lunedì Signora, signora, chi ha trovato il calavero? La Cati Una delle ragazze che lavora da noi Io l'ho mandata a chiamare l'Ermess Perché erano già le otto Non si era ancora visto La Cati è tanto devota alla Madonna E così ce la portava Ermess a dire La novena in San Petronio con la Vespa Anche se politicamente Politicamente Ermess stava con i comunisti E io non so quali sono le vostre idee Ma io ve l'ho detto Simpatizzava Sì, va bene Si guardi attorno, signora È tutto in ordine? Non so, le sembra che ci sia qualcosa di diverso dal solito nella stanza A me? No No Mi pare di no, dottore È tutto in ordine Comissà, ma perché queste domande? Che cercate? Segni di lotta, maresciallo Segni di lotta? Sì A me sembra che sia tutto chiaro È tutto chiaro Guardi qui, maresciallo Tra lo scapello sul quale dovrebbe essere salito per impiccarsi E i piedi C'è almeno una spalla di vuoto E già Che un impiccato si allunghi a stare appeso è normale Ma che si accorci non l'ho mai sentito dire Gesù, commissà Come sono contento che siete tornati Ora telefono in questura per dire che chiamassero il magistrato e il dirigente dell'omicidio Perché il ragazzo non si è ammazzato Ma lassù ce l'ha proprio messo qualcuno Sconsigliare, sconsigliare assolutamente Padre Lombardi, il microfono di Dio a Bologna a quattro giorni dalle elezioni Ma vogliamo scherzare Il comitato civico vuole fargli dire messa in San Petronio Al funerale dell'onorevole Orlandelli No, 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 no Mi dispiace per l'onorevole Ma anche se è nato in strada maggiore L'infarto l'ha avuto a Roma E allora che glielo facciano là il funerale La questura da parere negativo Fine della riunione e stessi ordini per tutti Limitare l'attività degli uffici ai casi importanti E distaccare tutti gli uomini disponibili per le elezioni Buon lavoro No, 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 discorso chiuso Discorso chiuso Non se ne parla neppure Vicecommissario De Luca, signor Questore Se permette vorrei No, no, dottor De Luca Mi hanno parlato tanto, tanto bene di lei Bravo, bravo Non sono, dottore Se permette, signor Questore Riguardo alle sue disposizioni sul distaccamento del personale Sì, 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 bravo, bravo De Luca No, 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 discorso chiuso D'Ambrogio Lo so che Orlandelli era un pezzo grosso Amato e stimato da una parte Ma molto odiato dall'altra Ora forse bisognerebbe valutare più attentamente tutta la questione Se permette, signor Questore Essendo il mio ufficio al pieno dell'organismo È relativamente poco impegnato Sembrerebbe una provocazione, caro D'Ambrogio E mi stupisce che tu me lo chieda Neanche fosse un ufficio Allora, se permette, potrei essere utilmente distaccato alla mobile Per occuparmi dell'omicidio di questa mattina C'è stato un omicidio questa mattina? Sì, sì, Hermes Ricciotti Suicidio, signor Questore Suicidio Il dirigente della squadra mobile, il dottor Bonanga È convinto che si tratti di un suicidio No, Questore Crisi di coscienza di un rosco individuo Che tra l'altro pareva simpatizzasse per i comunisti Ma non ci sono prove, non è ancora... Ma no, ma per carità Se è un suicidio, è un suicidio Non complichiamo le cose E soprattutto non diamo adito a strumentalizzazioni politiche Bene, se fermiamo Lodevole zelo, dottor De Luca Ma gli sconfinamenti d'ufficio da noi non sono graditi Ecco, non sono graditi, dottore Non sono dottore Non sono dottore Non sono dottore, non sono dottore Ho conosciuto un altro che lo diceva sempre Come si chiamava? In Gravallo Il commissario In Gravallo lo conosce? Sì, sì, l'ho conosciuto una volta a Roma Permette, dottor Scala, capo di gabinetto del Questore A piacere Sono un ventottista Sì, sono entrato in polizia con la chiamata speciale del 28 Quando non c'era bisogno della laurea per fare il commissario Bastava il concorso Quindi non è dottore e non è passato di grado per meriti fascisti No, buon per lei Quanti anni ha De Luca? 37, 38, sotto i 40? Doveva essere giovane nel 28 Sono stato il più giovane commissario della polizia italiana Al concorso ero il primo in graduatoria Mi hanno fatto commissario quasi subito Risolsi il caso Matera nel 29, forse se lo ricordo No Ero dentro nel 29 Ero nel direttivo clandestino del Partito Comunista Stavo rientrando dalla Francia e una spiata Naturalmente lei è stato epurato Naturalmente Naturalmente E' un peccato che un talento come il suo si sprechi tra i bordelli di Bologna Lei doveva stare all'omicidio al posto di quel bonaga Bravo ragazzo, per carità Ma limitato con la tendenza a chiudere i case in fretta Sì, infatti Soprattutto quando si tratta di compagni A me invece sembra un caso interessante questo di Ricciotti Non trova? E' Luca? Ve lo ricordate come la chiamavano ai tempi del regime, commissario? E' geopolitica, anzi la geopolitica, come diceva Starace Ve lo ricordate Starace? Ah, come no? Ecco qua Ecco I vostri caffè Dottore Maresia Grazie L'Usi non avrebbe una pastiglia per il mal di testa? Oh, mi dispiace, no dottore Dottore Ah, vai, vai Eh, come dicevo, così tanto per capire la situazione e decidere come comportarsi Il dottor D'Ambrogio Il vice questore Sta con la democrazia cristiana Senza tessera Perché come sapete ai poliziotti non è permesso Ma lui è quello dell'ADC E' amico di quel sottosegretario giovane che sta a Roma Quello bassetto, gobbo, con l'orecchia sventola Brutto assai Il capo di gabinetto del questore, il dottor Scala, è quello del PC E' uno dei pochi poliziotti ex partigiani che il ministro Scelva non ha ancora assidurato Ma pure lui, c'ha le spalle coperte a Roma, alle botteghe oscure E qui a Bologna è amico del sindaco Doz Il questore invece non è niente Tira a campare, aspetta di vedere chi vincerà le elezioni Un po' come tutti E Bonaga? Bonaga è un cretino Come un cretino? Eh, fa quello che gli dicono di fare Se no non fa niente, tira a campare E chi gliel'ha detto richiudere il caso Ricciotti? Chi lo sa? D'Ambrogio Può essere pure che l'ha pensata da solo la storia del suicidio Sta lì dove sta perché è figlio d'arte Suo padre è il prefetto a Trapani Ma appena trovano qualcosa di meglio, lo tolgono di mezzo E a fare il capo della mobile ci mettono qualcun altro Eh, se non fate pazzie è facile che vi ci fanno a voi, come sa? Se non fate pazzie però Fugliese, io sono curioso di natura I misteri non mi piacciono Eh, non so a lei, ma a me questo signore che fa le acrobazie Per infilare la testa in una corda Mi dà un fastidio quasi fisico Dica il popogliese Secondo lei sarebbe, beh, una pazzia Andare dalla Tripolina Quella del bordello di Via delle Occhie 16 E farle un paio di domande su Aeromess Ricciotti Per me sì Come? Perché il mio dirigente ha chiuso il caso E adesso non riguarda più il mio ufficio Ma per voi, che siete della buon costume Fare qualche domanda su un guardiano di casino Una tenutaria di casino Non è poi così strano Guarda E mica si tratta di aprire un'inchiesta, no? Solo qualche domanda Solo qualche domanda, maresciallo Lo giuro Va bene Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle Ocche Personaggi ed interpreti della prima puntata Commissario De Luca Claudio Moneta Maresciallo Pugliese Natale Ciravolo Armida Chetti Fusco Questore Giordano Augusto Di Bono D'Ambrogio Vicequestore Paolo Bessegato Dottor Scala Ruggero Dondi Brigadiere Caputo Riccardo Merli Realizzazione tecnica e sonorizzazione Lara Persia Adattamento radioponico e regia Di Alberto e Gianni Buscaglia Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle Oche Adattamento radiofonico e regia Di Alberto e Gianni Buscaglia Seconda puntata Bologna 14 aprile 1948 Mercoledì Tramonto Via delle Oche 16 E questa è la casa della tribolina Commissario Il campanello pugliese Il campanello Quale campanello? Ah il campanello Non c'è neppure il campanello in stu casino E allora bussate Maresciallo Avete visto Commissario Là sulla colonna del portico Cosa? Quel manifesto lì stato a lutto Onorevole Goffredo Orlandelli Cavaliere ufficiale avvocato Dottore Ah certo che mettere la morterina Dell'onorevole Tutto casa e chiese In via delle Oche Suora quasi come una bestemmia E fa pure pandanco Il cartello appeso Sulla casa della tribolina Abbiamo la ferrarese Eh forse quello E' più adatto all'ambiente Siamo chiusi Chi è? Vice commissario De Luca Squadra buon costume Un momento Chiamo la signora Commissario Ma che tengono una creatura dentro il bordello Siamo chiusi Stiamo facendo le pulizie E le fate di sera le pulizie? Cambio della quindicina Intanto che arrivano le nuove ragazze La signorina offende la decenza Non si accoglie la buon costume sottoveste? Sono in casa mia E siamo chiusi Vent'anni che sono in polizia E non ho mai visto una metresse Che lascia sulla porta un commissario Io non lascio sulla porta nessuno La pubblica sicurezza Ha la facoltà di accedere Quando vuole Ai locali del meretricio Siete voi che state sulla porta Se volete entrate pure Non aspettavo altro Non importa maresciallo Solo un paio di domande Giusto per chiudere la pratica Allora Hermes Ricciotti È morto Sì lo sappiamo Si è impiccato E sappiamo anche questo Noi sappiamo un sacco di cose E ne vogliamo sapere di altre Allora Lei è la Tripolina vero? Vabbè Come fa di nome la signora Tripolina? Claudia E poi? Claudia Tripolina? No Tagliaferri Claudia In arte Tripolina Bene Allora la signora Tagliaferri Claudia In arte Tripolina Adesso mi dice che tipo era questo Ricciotti Che gente frequentava E per quale motivo secondo lei si è ammazzato Ah e poi Mi fa anche parlare con le ragazze Che lo conoscevano meglio Altrimenti io torno in questura Mi ripasso il titolo settimo Del testo unico di pubblica sicurezza Quello sul meretricio E vedrai che lo trovo Un modo per togliere la licenza Alla signora Tagliaferri Claudia In arte Tripolina Signorina Commissà Se permettete Vi do io uno spunto per arrestare questa qua Perché la vocina che abbiamo sentito prima Era quella di una minore E forse la signorina Tripolina non lo sa Che nei luoghi di meretricio Non sono ammessi minori di anni diciotto La lisetta Diciotto anni compiuti Anche se ancora la voce di una bimba La conosco la legge io Sì, sì, va bene, va bene Davvero lei è nata a Tripoli? No Sono nata ad Alessandria Ma non quella d'Egitto Alessandria in Piemonte Mi chiamano Tripolina Perché ho fatto il mestiere nelle colonie Per due anni durante la guerra Ma mi chiamavano così anche prima Per via della pelle Che è sempre stata un po' scura Che tipo era Ricciotti? È morto E va bene Domani mattina in quest'ura Te e tutte le ragazze che conoscevano Ricciotti Compresa la Ferrarese Buonasera Permette, maresciallo Che ci fai qui, caputo? Maresciallo, la devo portare alla Montagnola Hanno trovato uno con la gola tagliata Come sai, io me ne devo andare Anzi, ve lo chiedo come favore personale Venite pure voi Perché? Che è successo? Al parco della Montagnola C'è un tizio con la gola tagliata E questo proprio non si può dire che sia un suicidio A tetto alla bicicletta, commissario È caduto nel prato insieme alla bici Maresciallo Pugliese, che cavolo è successo? È un morto, dottor Bonaga Un morto ammazzato Stia sulla ghiaia che si bagna le scarpe Cristo, sono anche nuove Commissario, lei conosce il dottor Bonaga? La dirigente della squadra Mobius Vice commissario De Luca Della Buon Costume Ma hai visto come sono vestito? Mi ero messo lo smoking perché stavo andando a teatro con la mia fidanzata A vedere l'ultima rivista di Totò, Bada che ti mangio Quando mi hanno telefonato a casa dalla questura O dico, a casa, eh? Ti rendi conto? Davvero? Pugliese? Sì? Pugliese, è oro quello? La catena intorno al collo? Sì, 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 commissario, è oro E ha anche al dito un anello grande E l'orologio pure Un portafoglio ce l'aveva? Sì, sì, eccolo qua dottore Piras Osvaldo fu gavino nato a Sassari nel 902 Comunque qua non si sta male, te ne accorgerai De Luca Bologna è una città tranquilla A parte qualche seccatura come questa Uno, due, tre... Qui ci sono tre biglietti da 100 lire E poi questa Cos'è? E anche quest'ora è un uomo tranquillo Sempre che rimanga anche dopo le lezioni E la reclame di uno studio fotografico in via Marconi Il nostro Piras faceva il fotografo Va bene, va bene, maresciallo Metta tutto insieme E ci guardiamo domani mattina in quest'ora, eh? Qua mi sembra tutto chiaro, no? Questo tizio attraversava il parco per tornare a casa E l'hanno ammazzato per rubargli i soldi I soldi ce li ha ancora addosso, dottore? E anche loro E loro puttaniere Ci battono la montagnola, no? E anche mezzo spogliato, è tutto chiaro Mentre si appartava con una mondana... No, no, ci stavo pensando anch'io Però avremmo trovato la bicicletta Appoggiata a un albero Eh No? Questo l'hanno fermato apposta Gli hanno tagliato la gola sulla strada E lui è caduto giù dalla discesa con la bicicletta Allora hanno cominciato a frugarlo E quando è arrivato il metronotte Sono scappati Oi, collega Piano con le teorie, eh? No, no Fino a prova contraria sono io il dirigente dell'omicidio Sì, ma guarda, guarda Cosa? Questo è un comunista E c'è pure la tessera Un comunista? E me lo dici adesso? Dammi qua Ci vediamo in quest'ora, pugliese Russo? Portami al Duse, che è tardi Russo! Sono qui, commissario Secondo voi, commissario Chi va a chiamare? Scala? O D'Ambrogio? Forse tutti e due Anche se la logica vorrebbe che si andasse di corsa A casa del morto Eh sì Perché se non l'hanno ammazzato per i soldi O hanno già trovato quello che cercavano Oppure se non l'hanno trovato Sono andati a cercarlo A casa sua Oh, marò, commissario Ci vuole un ordine del giudice Per andare a perquisire un appartamento Sì, sì, è vero, maresciallo Ma per andare ad avvertire del decesso Eventuali parenti Intanto dare un'occhiata in giro Non ci vuole niente, no? Niente? Eh, che ci vuole? Niente? Eh, allora andiamo E quattro Marò, che lentezza sta scensora Come sa? La vedete pure voi quella striscia di luce che passa sotto la porta? È meglio ridiscendere al piano di sotto Presto usciamo da questa trappola Da quella parte È uscito dalla porta che va sul tetto Lei si occupi dell'appartamento, maresciallo Ma faccia attenzione Potrebbe esserci qualcun altro Ah, io vado sul tetto Prudenza, commissario Eh, sì Oh, questo si scivola Le tecole sono bagnate Polizia! Butta la pistola e alza le mani! Fermo, spero! Ma che cavolo fa? Oh mio Dio, scivola Quello finisce in strada Attento! Attento! Disgraziato È scivolato dal tetto Ed è finito di sotto Vado ad avvisare la polana Intanto, guardate Guardate un po' cosa ho trovato Dietro a quel cassettone, commissario E' vero? Quello ha disfatto tutta la casa E forse stava cercando queste foto Ma questo Questo è Hermes Ricciotti Abbracciato a una ragazzina E sotto c'è scritto Hermes Lisetta Presto Sposi Guardate La ragazza porta gli stessi sandali fotografati In quel frammento di foto Trovato nella stanza di Hermes Eh, date un'occhiata a queste altre È sempre Ricciotti Sempre con la stessa giacca e cravatta Ma ogni volta con una ragazza diversa Soltina Teresa, Lisetta Presto Sposi Forse non ci siamo capiti Dottor De Luca Dottor D'Ambrogio Ci sono elementi nuovi Credo che questo nuovo delitto possa essere collegato a... Forse non ci siamo capiti Dottor De Luca Mi pareva che il questore fosse stato chiaro Gli sconfinamenti d'ufficio Da noi Non sono graditi Cosa ci fa qui? Io casualmente mi trovavo con il maresciallo Pugliese Il maresciallo Pugliese Ora andrà immediatamente in questura A fare rapporto sugli avvenimenti di questa sera Vero maresciallo? Comandi, signor vicario Ecco E lei Che ci fa qui Dottor De Luca? Casualmente mi trovo Ah, casualmente lei si trova sul luogo di un reato Che non è di sua competenza E altrettanto casualmente si è trovato al centro Di una sparatoria notturna Bologna non è la Chicago dei gangster, dottore E cosa sono Questi elementi nuovi? Signor vicario Vede, ci potrebbe essere un collegamento Tra questo Piras e l'uomo ucciso nel bordello Dal momento che stranamente Intanto l'uomo ucciso nel bordello Non l'hanno ucciso ma si è suicidato Sì, va bene, però No, però niente De Luca, niente Questo è un caso chiuso Si tratta di suicidio Non ci riguarda più Quel comunista che hanno ammazzato stasera è un omicidio e non riguarda lei ma il dottor Bonaga E questo macello qua per ora è solo un tentativo di furto Che ancora una volta non riguarda lei ma riguarda la squadra mobile Sì Sa qual è il suo compito vice commissario aggiunto alla buon costume? Dare la caccia alle puttane Badare che non siano minorenni e che non attacchino lo scolo alla gente per bene Sono stato chiaro? Dottore? Adesso torni a casa Si faccia una bella dormita e domani con calma faccia il suo rapporto sulla sparatoria E su quel tizio che si è ammazzato cadendo dal tetto Un rapporto sobrio, De Luca Senza fronzoli La sparatoria E basta Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle Oche Personaggi ed interpreti della seconda puntata Commissario De Luca Claudio Moneta Maresciallo Pugliese Natale Ciravolo Claudia Tagliaferri Maria Eugenia D'Aquino Dottor Bonaga Riccardo Peroni D'Ambrogio Vicequestore Paolo Bessegato Realizzazione tecnica e sonorizzazione Lara Persia Adattamento radioponico e regia Di Alberto e Gianni Buscaglia Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle Oche Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia Terza puntata Bologna 15 aprile 1948 Giovedì mattina Sì, avanti Buongiorno, commissario Ah, binaccio Che c'è? La pratica con le basse di passaggio, commissario Cambio quindicina Eh, e allora? Ogni quindici giorni le prostitute cambiano bordello E quando partono devono avere un foglio sanitario Sì, sì, non lo so, lo so Intendo dire perché le dai a me Cosa devo farci? Beh, di regola le firma il dirigente Le basse di passaggio sia in partenza che in arrivo Anche se il suo predecessore, il dottor Carapia Le faceva firmare tutte a me Ecco, ecco, facciamo così anche noi allora Firmale tu che mi sta bene Ecco, però Facciamo proprio come si faceva col dottor Carapia Proprio uguale Perché? Come faceva il dottor Carapia? Eh, beh, non andava tanto per il sottile Questa chiudeva la pratica anche se non c'era proprio tutto Ecco, qui, per esempio, di basse ne mancherebbe una Sì, sì, ma va bene, facciamo così Insomma, fai te Comandi, signor commissario Allora archivio la pratica nel faldone del casotto interessato Cagliaferri, Claudia, via delle oche, numero 16 Ho detto che archivio la pratica nel faldone No, 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 cosa hai detto dopo? Nel faldone del casotto interessato Cagliaferri, Claudia, via delle oche Di Naccio, portami tutta la documentazione della casa di via delle oche, si dici Voglio controllare tutti i movimenti delle ragazze nelle ultime settimane Ecco, commissario Fabri Fiorina, detta Vanda Destinazione Casa delle Rose, Palermo Pistocchi Silvana, detta Mimi Destinazione L'Orientale, a Venezia È normale che vengano sparpagliate così per tutta Italia A volte succede Però non è normale che siano passate così di livello Il 16 di via delle oche è una quinta categoria Qui, guardi La nitona è passata al Fiorichieri di Milano È come dire che dalle 50 lire per la semplice di via delle oche È passata alle 300 di Milano dove ci sono dei pezzi di ragazze No, io lo so perché ci sono stato per servizio, signor commissario Sì, sì, non lo metto in dubbio Allora, qual è la pratica che manca, brigadiere? Ecco Qua Bianchilisa, detta Lisetta Nata a Pieve di Cento, frazioni Acquaviva, provincia di Ferrana La data di arrivo della Lisetta è di una settimana fa Sì Però anche le altre Tutta la quindicina è arrivata da meno di una settimana Brigadiere di Naccio, io ammetto di essere un novizio della buon costume Però che una quindicina dura 15 giorni, credo so anch'io Cambio anticipato, commissario Certo, ci vuole un motivo Ma forse... Ecco qua La pratica è arrivata questa mattina La questura dà parere favorevole al trasferimento della licenza nome Tagliaferri Claudia Da Via delle Oche 16 a Via dell'Urso 8 Via dell'Urso è una seconda categoria, commissario Per questo la titolare cambia la quindicina No, 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 un momento, Di Naccio, un momento Chi l'ha dato questo parere favorevole? Non dovremmo darlo noi, questo parere? Di norma, sì Appunto Ma, vede, qui è firmato dal vicequestore, il dottor D'Ambrogio Va bene, devo occuparmi di puttane E allora mi occupo di puttane Mi ha ricordato anche lui, no? Il dottor D'Ambrogio Ah, dammi con la pratica Vado a vedere dove è finita questa lisetta Sentimental Questa notte è infinita Questo cielo autunnal Questa rosa appassita Ah, commissario De Luca della Buon Costume Ah, ma deve tornare perché siamo chiusi Mi tiene sulla porta anche questa volta? Non si tiene mai un commissario sulla porta Prego Grazie Ah, però Un bel cambiamento, davvero Bello E di gran classe anche Almeno tre categorie in più rispetto a Via delle Oche Cosa vuole da me? La bassa della lisetta Non ce l'ho E se n'è andata senza dirmi niente Perché? Sarà tornata a casa Forse ha trovato uno che l'ha sposa Chi? Hermes Ricciotti E sparisce così Era qui l'altro giorno E adesso Puff Sparisce all'improvviso E senza certificato medico Forse non voleva fare la visita? È abbastanza per farti avere dei guai, Tripolina No Non con... Con? Faccia come vuoi No, no, no Stavi per dire Non con le protezioni che ho Vero? Lo so Lo so che hai un santo che Che ti protegge Se no non lo facevi il trasloco del tuo portello Immagino che se mi metto a romperti le scatole Con le visite sanitarie Con le convocazioni in questura Con i bolli sui permessi Prima o poi Salta fuori qualcuno Magari Vicequestore Che mi dice di impiegare meglio il lavoro del mio ufficio E allora sai cosa faccio io? Sai cosa faccio, Tripolina? Sì Cosa fa? Mi metto qui Su questa bella poltrona Anzi, vengo qui tutte le sere E beh, sono scapolo, sono libero Con tutto quello che mi è successo È più di un anno che non tocca una donna Avrò bene il diritto di Usare come voglio le mie serate di libertà No? Allora appunto io Mi metto qui Mi siedo Mi metto il cappello sulle ginocchia Così fa Fa più poliziotto E poi comincio a A guardare Fisso la gente negli occhi Così, così come adesso guardo te E poi sai cosa faccio? Ancora A metà serata Mi faccio raggiungere da Dinaccio Lo conosci? Il brigadiere Dinaccio E per essere più chiaro Gli faccio dire Tutto bene, signor commissario? Basta Soltanto questo Ah, chissà Magari ogni tanto Tiro fuori il taccuino Ci scrivo qualcosa Faccia come vuole Dai Tripolina Smettiamola Voglio sapere che cosa ha fatto Ricciotti In questi ultimi giorni Non lo so Non l'ho più visto da sabato Domenica Era il suo giorno libero E da allora non è più tornato Va bene Allora dimmi come hai ottenuto il passaggio da Via delle Oche a qui, in Via dell'Orso Ho fatto una soffiata ad Ambrogio A letto la gente parla E in questi giorni le chiacchiere valgono oro Quali chiacchiere? Non lo so Cose dei comunisti Cose che sapeva la Lisetta Va bene Allora voglio sapere perché Piras ha fotografato Ricciotti con la Lisetta E con tutte le altre ragazze Hermes Faceva il fidanzato in prestito Per le famiglie Ogni tanto c'è qualcuna che fa il mestiere Senza averlo detto a casa Come la Lisetta E allora c'è bisogno di un fidanzato Per tranquillizzare i genitori Hermes aveva un vestito buono Si presentava bene E si prestava a farsi fotografare con le ragazze Tutto qui Ma capito C'è altro che vuoi sapere? No No per adesso no Cosa fai? Te ne vai? Si Ma vedrai che torno Lo so Tornerai Tornerai Ma cosa sei una maga? No Tornano tutti Ho imparato a conoscere gli uomini Ma davvero? E io? Che uomo sono? Tu Sei un uomo solo Che ha bisogno d'amore Commissario De Luca Dottor Scala Il suo collaboratore Brigadiere Di Naccio Mi ha detto che l'avrei trovata qui al casino Vogliamo fare due passi? Sì Piove Speriamo che sia brutto anche domenica Domenica? E perché? Le elezioni Se piove le beghine si chiudono in casa Alla faccia di De Gasperi Noi invece a votare ci andiamo tutti Per noi intendono i comunisti, dottore Non sono, dottore Ehi! E' meglio ripararci sotto i portici Sì, è meglio Allora, come vanno le indagini? Ha scoperto che ha ammazzato Ricciotti a Piras Sì Piras l'ha ammazzato un tizio Che poi è caduto da un tetto Un tizio che aveva sul volto I segni delle unghie di Piras E l'ha ammazzato perché Perché voleva delle fotografie E cosa c'era in quelle fotografie? Eh, non lo sappiamo Ricciotti? Hermes Ricciotti conosceva Piras E lo conosceva bene Quindi? Si potrebbe pensare che i due delitti siano collegati E che sono stati compiuti da una stessa persona Sì, si potrebbe pensare, sì Lei è molto vago, commissario De Luca Non ho mezzi Non ho informazioni, dottor Scala E appena cerco di fare un passo avanti Mi bloccano E poi non sono un omicidi Io sono una buon costume Il vicequestore era un buon... Lo sa chi era l'uomo che è scivolato dal tetto della casa di Piras? Scommetto che questo Il vicequestore d'Ambrogio non gliel'ha detto No, non me lo ha detto Matteucci? Silvano credo, ma il nome ha poca importanza È più importante sapere che era un uomo dell'Abbatino Lo sa chi è Abbatino, no? Eh, no? Il pupillo che è compianto casa e chiesa, l'onorevole Orlandelli Abbatino è il segretario di un comitato civico che gli faceva da ufficio elettorale Se vuole saperne di più, commissario, chieda a Marconi della politica E chieda a Sabatini della scientifica di mostrargli i documenti filmati E anche lui dica che la mando io E se vuole ai referti dell'autopsia si rivolga a Cinelli, medicina regale Cinelli, sì Qui a Bologna siamo ancora forti in quest'ora I nostri sono tutti a sua disposizione, commissario Miruca Sfrutti Sfrutti il fattore K Il fattore K? Il fattore Comunist Lo farò Lo farò, dottor Scalato Eh, se io fossi all'omicidi mi chiederei perché questo Matteucci stava svaliggiando la casa di un compagno Invece di essere in strada ad attaccare manifesti contro i comunisti Lei invece non se lo chiederebbe Facciamo così Io faccio distaccare Bonaga a Roma per un po' E intanto lei se lo chieda, De Luca Se lo chieda Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle Oche Personaggi ed interpreti della terza puntata Commissario De Luca, Claudio Moneta Brigadiere di Naccio, Gianmario Arringa Claudia Tagliaferri, Maria e Eugenia D'Aquino Dottor Scala, Ruggero Dundi Realizzazione tecnica e sonorizzazione, Lara Persia Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle Oche Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia Quarta puntata Bologna, 16 aprile 1948 Venerdì mattina Non si aspetta il cinema commissario E' questo l'ufficio reperti della scientifica E' mica una sala prezzata Poi il film è muto Vabbè, al cinema magari ci vado stasera, a sabatini Adesso accontentiamoci del tuo film muto Comissà, Aldo Sadella Danno Noi Siamo Zingarelli Costale Olio L'ho visto con mia moglie Così mi fate due risate Marconi, dovresti andarlo a vedere Così vuoi della politica imparata come si fa un film Dica queste chiave che qua Se te ne stai un po' zitto Pugliese posso spiegare al commissario Quello che si vede in questa chiave carifina Ecco, qui siamo in piazza maggiore Dottor De Luca Comizio dell'onorevole Orlandelli Purtroppo pioveva e le immagini sono brutte Eccolo là, lo vede? Dietro l'orlandelli, l'onorevole casa e chiesa Quello è Abatino L'ha visto dottore? Sì, sì Quello che tiene l'ombrello per coprire l'onorevole Sì, quello magro con gli occhiali Ah, e quello sarebbe Antonio Abatino Anche se non ha niente dell'Abbatino Ah, come sa? Avete visto questa scritta su quel manifestino? Gli elettori che votano per partiti Che professano dottrine contrarie alla fede cattolica Commettono un peccato mortale Gesù mio Stia attento dottore Ora arriva anche quell'altro Ecco, l'ha visto? Ah, sì E lì, dietro l'Abbatino Quello è Matteucci Silvano Ex-hort ufficiale della decima massa Presidente per Rissa, per Cosse e tentato vicino Dopo la guerra faceva la borsa nera Ufficialmente sarebbe un ambulante Poi quest'ora ci fa riprendere di tutto È dalle processioni delle madonne pellegrine Ai comizi del fronte popolare Parità di condizioni, dice Così si sente a posto con tutti Va bene, è sufficiente Sabatini, grazie Grazie ancora, Marconi Lasciateci soli un momento, per favore Va bene, Marconi Vogliono stare soli Salute Grazie Allora, maresciallo Cosa mi dice? Ehi, io Io tengo famiglia, commissà Anch'io È questa la mia famiglia Ed è anche la sua, Marconi Pugliese Noi siamo poliziotti No, 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 no Io sono un poliziotto con una moglie e un figlio piccolo Da tirare su e con uno stipendio da marasciato di pubblica sicurezza Non me lo posso permettere di essere trasferito in Sicilia A dare la caccia al bandito Giuliano No, ma siamo coperti, Pugliese Non succederà Il dottor Scala mi ha garantito che ci tiene D'Ambrogio e Bonaga fuori dalle scatole per un po' Vi siete messo con i comunisti, commissà E guardate che quelli, le elezioni, le perdono Non mi sono messo con nessuno, io faccio il mio mestiere Che è quello di indagare su un delitto e continuare a farlo finché non scopro chi l'ha commesso Perché? Credete che a Scala gli importi qualcosa di sapere che ha ucciso Ricciotti e Piras, eh? No, no, no A Scala, questo affare interessa perché interessa anche all'Abatino Commissà, siamo sotto elezione, questa è tutta politica Li stanno usando pure a voi Non me ne frega niente se mi usano Io faccio il poliziotto e sto con chi mi permette di fare il mio mestiere E' per questo che stavate con i fascisti E' così che siete finito nell'investigativa della Muti Quando vi ho conosciuto eravate nella lista di quelli che dovevano essere giustiziati dai partigiani Ve lo ricordate? Ah, fanculo, maresciallo Pugliese Adesso sono nella polizia della Repubblica Italiana e indago su un caso di omicidio Ci sta o non ci sta? Andate voi a fanculo, commissario De Luca Lo sapete che ci sto? Bene Pugliese, Pugliese Allora, fonogrammi a tutte le questure e alle stazioni dei carabinieri interessate Con una lista di domande da fare alle ex prostitute di Via delle Oche Sì Poi, voglio le schede informative di Hermes Ricciotti e degli altri Compreso questo Antonio Abbatino Bene Ah, e poi Voglio tornare in Via delle Oche a risentire l'Armida e tutte le altre E voglio la Lisetta, dovunque sia Andiamo, Pugliese Si ricomincia Prendete almeno qualcosa, dottore No, no Lo bevete un cinzadino, un vermuttino Fanni No, no, non voglio niente Faccia venire piuttosto la ragazza che ha scoperto il cadavere di Hermes Ricciotti Come preferisce, commissario Ecco Fanni Chiama la Cati e dille di venire da me Torniamo a noi, Armida E veda di non innervosire il commissario Ci stava dicendo di questo Hermes Ricciotti Eh, sì, sì Era così Un bravo ragazzo Maresciallo Magari non poco sfortunato Perché aveva avuto anche dei guai con la questura Ma da un po' di tempo Aveva messo la testa a posto Diceva che voleva trovare un lavoro serio Sposarsi Mettere su famiglia E quella notte invece non posso dire niente Poco, poco, commissario Ho visto anche lei Dove è la stanza del povero Hermes Eh, e chi lo poteva sentire da qua Ah, certo Ah, no, aspetti Forse, forse l'Ivonne Che tiene la camera attaccata al muro della torretta Ma gliela chiamo Ivonne Ma avete chiamato, signor? Eh, Ivonne No, sono la Cati Montuschi Carmelina, commissario Cati Di bene al commissario dell'Hermes Oddio, che disgrazia Sono ancora tutta scombussolata Povero ragazzo E chi se lo aspettava Sono qui, signora Ma chiamato? Eh, Fanny No, non sono la Fanny, commissario Sono l'Ivonne Anconnelli Yvonne Dette Gigi E con l'accento E con la gialla francese Sa, mia madre era parigi Yvonne, Yvonne Digli bene di Hermes Al commissario Oh, dottore Preferisci forse un caffè? Ma no Io lo faccio fare Fanny Basta, basta Non voglio niente Grazie Non voglio niente Voglio solo sapere Com'era questo Hermes Eh? No, se era preoccupato Se era spaventato E euforico Non so Se era arrabbiato con qualcuno Se l'avete visto Su o giù di morale Su Giù Era su Come avete detto voi, dottore E euforico Noccati Era giù Nero come un capello L'Hermes Te lo dico io Sentite, commissario Io non ho mai avuto Una grande confidenza Con l'Hermes Ma da qualche giorno Parlava sempre Quando mi accompagnava La messa sulla vespa Si voltava indietro E mi faceva una paura Guarda avanti Gli dicevo E lui Chi se ne frega E poi cantava Diretta a me, commissario Io l'ho sentito bene L'Hermes L'altra sera Andava su e giù Per la stanza Come un animale in gabbia E a un certo punto Ha anche tirato Una scarica di pugni Contro il muro L'ho anche chiamato Ma lui mi ha mandato A quel paese E poi ho sentito Che piangeva Ah, dopo niente Perché quando finischi il turno Prendi il luminal E dormo con un sasso Sentite me, commissario Qualche giorno fa Mentre mi portava la novena Hermes mi ha detto Cati, presto vi lascio Mi sposo E apro una palestra a San Lazzaro E poi ha cantato Bandiera rossa Da qui a San Petronio Una vergogna, commissario Si, va bene E' stato il giorno dopo il temporale E te lo sei sognato il temporale No Sei te che hai la camera davanti Con le finestre chiuse E non sai neanche Se piove o se nevita Che poi, signor commissario Anche se le avesse aperte Lei lo chiama luminal Ma a casa mia Si chiama morfina E a te che cognac Ti ronza nell'orecchio E ti fa vedere Ehi, ragazze Andiamo, pugliese Ho la testa che mi scoppia Aria, aria Ho bisogno di aria Grazie, ragazze Per oggi abbiamo finito Siete riuscite a far venire Il mal di testa al commissario E gli porti un veramon Marisciallo No, no Fanni, un veramon Per il commissario No, no, no Grazie, grazie, signora Molto gentile Arrivederci Andiamo Con la confusione Il mal di testa è diventato insopportabile Quelli così si chiamano Commissario Casini A che pensate? Penso a un tizio che un giorno è tutto euforico per una cosa che gli sta cambiando la vita E il giorno dopo, no Dov'era quel giorno? E dov'è stato il giorno dopo? Insomma, domenica Dov'era? E chi lo sa Non riusciamo neanche a sapere se c'era o no il temporale, domenica Commissario Come sa, questo fonogramma arriva da Pieve di Cento, provincia di Ferrazio Dice Bianchi, Lisa, detta Lisetta Non è statualmente reperibile presso sua famiglia Ulteriori ricerche Est attualmente impossibili Causa impegno personale Controllo territorio Prossime elezioni politiche Avanti il prossimo pugliese Ah, questo arriva da Roma Dice che La Gilda domanda risponde No, non ho notato nulla di strano Riguardo al subnominato Hermes Ricciotti Del cui suicidio ho appreso soltanto al mio arrivo a Roma In fede, eccetera, eccetera Eh, poiché siamo sotto elezioni Eccetera, eccetera, sì Questo arriva dalla buon costume di Genova Premette che sono a corto di personale Causa elezioni Come avete fatto a indovinare Pugliese Eh, aggiunge però che tra due ore c'è il comizio di Togliatti Interrogata La nitona domanda risponde Non ho notato nulla di strano a riguardo del subnominato Ricciotti Hermes Del cui suicidio ho appreso soltanto al mio arrivo a Genova Sembra che recitino un copione Eh, già Anche la banda Ha preso la notizia subito dopo il suo arrivo a Palermo Dice commissario De Luca Ah, buonasera Marciallo Sì, sì, grazie Sì, esattamente Per l'informativa riguardante Bianchi Lisa Sì, detta Lisetta Ah Ho capito Siamo lì tra poco, Marciallo Grazie Hanno trovato la ragazza, commissario Sì, erano i carabinieri Non si era allontanata troppo da Bologna L'hanno trovata morta In una casa mezza divocata Vicino a Salazzano Attenti perché la scala non è molto sicura E commissario stava decadendo Eh, ma fate attenzione Ecco, è lì sul letto Non l'abbiamo ancora spostata perché stiamo aspettando un medico legale Oh mio Dio Sembra ancora una bambina Ed è nutrita dagli anni della guerra Nuda e con le sole calze di nylon addosso Ehi, probabilmente non sospettava chi fosse il suo cliente È morta soffocata, commissà E sarà fatta pure bella per le sue carnefici Sì, sulla febbra c'è del rossetto Dubito che la ragazza abbia baciato il cuscino Marciallo Eh, guardi là, là, là Il pavimento vicino al letto Dove? Vai Sì Una tabella spezzata e sollevata Non hanno neanche avuto bisogno di picchiarla Povera ragazza Deve averglielo detto subito Ma non è servito a niente Secondo voi Che c'era sotto questa tabella, commissario? Eh, le fotografie E che cazzo c'era in quelle fotografie, commissà? Ha finito, dottore Perché per me può restare finché vuole Ma tra poco di qua Sa, deve passare la processione della Madonna Pellegrina E Che come i comunisti vogliono bloccare la strada E La macchina che avete Sa così di questura Sì, sì, va bene Ce ne andiamo Abbiamo finito Commissà Sì Che cazzo c'era in quelle fotografie? De Gasperi A cena con Stalin Bisognerebbe sapere dove sono state scattate Dov'era Piras Il giorno che a Ricciotti Gli si è risolta la vita Il giorno del temporale Ah, una fissazione, la sua Lasci stare il temporale Piuttosto Dov'erano Ricciotti e Piras Ha un comizio A cena con De Gasperi e Stalin Come dice lei E poi con il Matteucci, Silvano E l'Abbatino Che ne sappiamo noi di questa gente? Torniamo in questura, Pugliese E andiamo a dare un'occhiata alle schede di Marconi Alla squadra politica Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle Oche Personaggi ed interpreti della quarta puntata Commissario De Luca Claudio Moneta Maresciallo Pugliese Natale Ciravolo Agente Sabatini Riccardo Peroni Agente Marconi Riccardo Merli Armida Chetti Fusco Carmelina Stefania Pepe Yvonne Alessia Spinelli Realizzazione tecnica e sonorizzazione Lara Persia Adattamento radioponico e regia Di Alberto e Gianni Buscaglia Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle Oche Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia Quinta puntata Bologna 16 aprile 1948 Venerdì Omeriggio Ecco Le schede commissari Marconi come previsto ha fatto un sacco di storie Le schede della sezione politica sono riservate Non si possono dare in visione Ma poi ha telefonato al dottor Scala e si è messo tutto a posto Noi vediamo Allora Questa è quella che riguarda Hermes Ricciotti Nato a San Lazzaro in provincia di Bologna nel 1928 Figlio di operai comunisti entrambi morti sotto i bombardamenti Vediamo vediamo Dal 46 al 47 viene arrestato e denunciato più volte per furto Rissa, gravata, ricettazione Segnalato la buon costume alla squadra politica Come impiegato presso la casa di Via delle Ocche 16 Segnalato come simpatizzante comunista Ecco qui però c'è una richiesta che è spinta di un tesserino da partigiano Qua ci sono un sacco di veline sulla sua attività di pugile dilettante Ma niente sulla sua frequentazione dello studio fotografico di Piras Non è strano commissario Eh già Vediamo la scheda di Piras Eccola, eccola qua Osvaldo Piras fu gavino nato a Sassari nel 1902 Emigrato nel continente nel 25 Prima a Roma poi a Bologna Dove lavora nello studio fotografico di uno zio antifascista Che finisce dentro nel 26 Così il Piras si rileva lo studio fotografico Ma guardate voi stesso come sei? È interessante la storia del Piras Vediamo, arrestato dalla milizia nel 29 ma rilasciato subito Ecco, c'è una nota matita dell'allora questore di Bologna d'Andrea Dice che da questo momento ogni nota su Piras va passata direttamente all'ovra E poi più niente fino al 47 quando Piras si iscrive al partito comunista Anche qui c'è un appunto a matita non firmato E che dice? E dice di rivolgersi al dirigente della squadra politica Sa chi era il dirigente della politica nel 47? D'Ambrogio, se mi sa Non è strano? Diciamo che è curioso, maresciallo Ecco, e questa, questa qua è la scheda di quel Matteucci Silvano Quello scivolato dal tetto e passato a miglior vita Diciamo che era proprio un bastardo Leggete un po' voi? Allora, collaborazionista Dopo la guerra i partigiani lo volevano fucilare Ma lui si è consegnato agli alleati Nel 45 si è preso 12 anni Commutati a 6 in appello e poi amnistiato Ufficialmente commerciante ambulante Ma secondo informative della politica Picchiatore per chi lo chiamava Dall'MSI al partito dell'uomo qualunque E qua non c'è scritto che lavorava per l'Abatino Ma volete sapere cosa c'è sulla scheda di Antonio Abbatino? Non mi sa Cosa? Niente Con niente Guardate un po' voi C'è solo una riga sottidata anagrafici Simpatizza per i partiti dell'ordine E basta Non è strano, commissario E chi saranno mai questi partiti dell'ordine? Antonio Abbatino Sono io Vice commissario De Luca e maresciallo Pugliese, polizia Cosa posso fare per voi? Questo magazzino cos'è? È la sede del comitato civico di via Porto, numero 18 Di cui io sono segretario Non c'è un posto più comodo per parlare? Questa è la seconda volta che ci tengono sulla porta, commissario? Eh, prima quella puttana di via delle oche E adesso qua E' proprio vero che la polizia non conta più niente È permesso? Prego, maresciallo Abbiamo molto da fare oggi, commissario Se si tratta di una cosa breve sono pronto a rispondere alle vostre domande Qui subito Se c'è bisogno di più tempo sarà mia cura venire al commissariato domani mattina Con il mio avvocato, naturalmente Abbiamo ragione di credere che uno dei suoi uomini abbia ucciso un fotografo di nome Piras Cosa intende per uno dei miei uomini? Uno che lavora per lei Per il comitato civico, immagino Il suo nome? Matteucci Silvano Mai fatto parte del comitato civico Però lo conosce Mai sentito nominare? Beh, eppure in un filmato della questura vi si vede assieme sul palco di un comizio In piazza Maggiore C'è tanta gente nei comizi Soprattutto sui palchi Ehi Guardate qua Guardate cosa ho trovato, commissario Cosa? Un moschetto pronto per l'uso È mio Lo tengo qui perché questa è una zona fuori mano E di notte la strada non è neanche illuminata Sei mesi fa i comunisti ci hanno attaccato e hanno bruciato tutto Sì, ma questa è un'arma da guerra E non è legale Questa è una guerra Loro hanno mitra e casse di bombe a mano nascosti nelle cantine delle case del popolo Non avete visto cosa è successo in Cicoslovacchia? Non avete sentito togliatti? Se vincono loro Addio libertà Addio giustizia Addio fede Addio famiglia Sa cosa facciamo qui, commissario? Noi facciamo azione di contropropaganda per combattere la strategia della menzogna Difendiamo la verità E difendiamo anche voi poliziotti Che ormai dovreste sapere da che parte stare Se volete sequestrare il fucile Fate pure E se volete arrestarmi per detenzione e lecità Prendo il sopravvito e vengo con voi No Io voglio solo sapere se conoscevate Matteucci Silvano E se sapete perché ha tagliato la gola a un fotografo E poi gli ha messo sotto sopra la casa Non lo conoscevo Non lavorava per me Non ha mai fatto parte di questo comitato civico Volete sapere altro? Perché portate il luto al braccio? L'onorevole Orlandelli era come un padre per me Più di un maestro Più di una guida spirituale e politica Era un santo L'onorevole case chiese, commissario Quello del casino Sì, sì, ricordo Sono in arresto, commissario? No Buonasera, commissario Buonasera, Tripolina Vuole entrare? Non si lascia mai un commissario sulla porta Esè E non si lascia mai una signora in attesa sulla soglia Che eleganza Ti ho sempre vista in ciabatte E sotto veste Addosso, notte di Venezia E sopra un abitino con lo bois de rose Cipria velluto di Hollywood Peccato per i sandali con la zeppa Che non sono di ferragamo Se no sarei proprio come nel figurino di Grazia Ogni tanto mi vesto anch'io, cosa crede? Ma prego, si accomodi Doveva rendere bene la casa di Via delle Oche E se guarda meglio Vedrà che il vestito me lo sono cucita da me E la stoffa era di una tenda che ho fatto tingere A notte di Venezia E il regalo di uno studente che ha preparato un esame nel mio casino E Via dell'Orso? È un regalo anche quello Siamo ancora chiusi, eh? Le ragazze della nuova quindicina entrano domani Non sono qui per consumare Sono qui per fare domande E poi vedremo se domani entreranno davvero le ragazze nuove Le dispiace se mi tolgo le scarpe Ho ragione, mi sono abituata alle ciabatte Sei a casa tua? Già, anche lei mi sembra Perché le tue ragazze raccontano tutte la stessa cosa A chi le ha inveccate Cosa c'entri tu con questa storia? Lo sai dove spendo i pochi soldi che ho, commissario? No Calze Calze di nylon I vestiti me li faccio da me Perché da ragazza ho lavorato nella rivista Ho imparato anche a fare la sartina Ma le calze mi tocca comprarmele Cosa c'entri tu con questa storia? Ah, adoro le calze di nylon Ti dispiace se me le provo? Posso? Sono qui per fare domande Hai mai sentito parlare di un certo abbattino? Davvero è un anno che non tocchi una donna? Come mi stanno queste calze, commissario? Tripolina Claudia, ti ho detto che non sono qui per... Si dice sempre così Ma poi... Non ti piaccio, commissario? Ma certo che mi piaci Baciami Si Sei bella, sei Ma Claudia Ma Claudia Le cinque Oh, buon Dio Ho dormito al casino Claudia Oh, Dio, scusa Hai fatto paura Non sono abituata ad avere qualcuno nel letto Davvero? Volevo dire che non sono abituata a dormirci con qualcuno nel letto Vanno sempre via subito dopo L'avevo capito Non pensavo a quello Sei bella Grazie Non mi hai nemmeno dato il bacio del buongiorno Buongiorno Senti, senti Claudia Sai che è bello sentirsi chiamare col proprio nome Come mai, tu? Non voglio dire quando... Insomma, come è che... No, scusami, ho una domanda stupida, scusa Che non me l'aspettavo da te È una domanda da parlante Da parlante? Ah A letto nei casini ci sono i teneroni Che vogliono le coccole come dalla moglie Ci sono gli speciali Che vogliono fare le cose strane Ci sono quelli che si innamorano E poi ci sono i parlanti Che dopo vogliono parlare Non mi sembravi uno così? Sono curioso di natura Ma non importa, lascia stare io Quando ero giovanissima facevo la subrette nella rivista Cioè, facevo la ballerina di fila Però promettevo bene Ho ballato con Wanda Osiris Ma mi hanno licenziato Perché sono stata trovata a letto Col capo comico Che era il suo fidanzato C'ero andata perché mi aveva promesso un regalo Chissà Forse ce l'ho sempre avuto di natura Di fare la puttana Ma non importa Ah, se le cose mi girano bene Un giorno avrò una casa come lo Chabelle di Parigi E allora te la saluto, la Osiris E tu? Perché fai il poliziotto? Forse perché ce l'ho sempre avuto di natura anch'io Ma sono curioso Per questo io Vorrei sapere cosa c'entra Sì, silenzio Sai che sono stata in tutti i bordelli d'Italia Anche in quelli belli Dove si impara A so fare di tutto, sai? Faccio di tutto Quello che vuoi Una tripolina Claudia Aspetta, per favore, Claudia Cristo, non puoi fare così ogni volta che sto per chiederti qualcosa Perché? Perché no? Ho sempre fatto così io Lasciami in pace Lasciami stare E puoi fare quello che vuoi Con le mie ragazze, con me, quando vuoi Allora c'entri con tutto questo Dimmi che cosa c'è sotto Guarda che sei paura di qualcosa Ci penso io Ti proteggo io, Claudia Mi proteggi tu? Sì Non sei così forte, commissario Non lo siamo, nessuno dei due Tu sei solo un poliziotto E io sono solo una puttana E poi È da quando ho vent'anni che mi proteggo da sola La verità è che tu c'entri e hai paura No, la mia proposta te l'ho fatta Sai cosa ti aspetta? L'hai visto ieri sera? Sono brava, vero? E ti è piaciuto? Allora Ci stai? Ci stai, commissario? Ciao, Tripolino Oca morta! Busone! Impotente! Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle Oche Personaggi ed interpreti della quinta puntata Commissario De Luca Claudio Moneta Maresciallo Pugliese Natale Ciravolo Claudia Tagliaferri Maria e Eugenia D'Aquino Antonio Abatino Igor Horvat Realizzazione tecnica e sonorizzazione Lara Persia Adattamento radiofonico e regia Di Alberto e Gianni Buscaglia Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle Oche Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia Sesta puntata Bologna Bologna 17 aprile 1948 Sabato Mattino Mi scusi Commissario Prego, prego Non pensavo di trovarla qui No, no, non si preoccupi Di Marcio È che sono arrivato presto questa mattina Non riuscivo a dormire Solito mal di testa No, volevo dire Non pensavo di trovarla in questo ufficio Ma perché? Perché l'hanno trasferita Non gliel'hanno detto So che l'hanno cercata ieri Trasferito? Ma come trasferito? Dove? Non lo so Alla notturna credo Ma Non gliel'hanno detto? No Non me l'hanno detto Che c'è dottor De Luca? Mi hanno trasferito dottor Scavara Lo so, alla notturna Ma non può lamentarsi È rimasto a Bologna Mi hanno trasferito È il caso Il caso? Sì Ah, il caso Il caso non interessa più a nessuno Commissario De Luca Non sappiamo dove si andrebbe a finire Ed è stato deciso Che sollevare un polverone proprio adesso Sarebbe un errore politico È pazzesco Io non sono d'accordo Ma mi adeguo Mi dispiace Ma come sarebbe a dire Che non interessa a nessuno? A me interessa Interessa a noi Noi siamo poliziotti Lei è un poliziotto Io non lo sono più Non lo vede? Sto traslocando De Luca Torno a fare il politico Anche se preferirei tornare a fare il partigiano Ma ho l'impressione che i giochi siano già stati fatti Sa qual è il nostro difetto, commissario? No Che vorremmo vincere Ma abbiamo paura di vincere troppo E così perdiamo sempre No, no Quando dico noi Intendo noi comunisti, commissario Se vuole salutare il capo di gabinetto Che mi sostituirà Dovrà aspettare che Scelba Dopo l'elezione Una volta riconfermato ministro Si decida a nominarlo Ma intanto le consiglio Di presentarsi al suo nuovo dirigente Commissario De Luca E chi sarebbe il mio nuovo dirigente? Il dottor D'Ambrogio Sta proprio nell'ufficio qui accanto Il dottor D'Ambrogio Brigadiere Agli ordini commissario Aiuti quella lettiga a passare C'è una donna anziara malata La faccia portare dentro al seggio Dietro Fate passare Viano Viano, fate passare La nonnina deve votare Mirelli Lei dio una mano a quelle reclute E fate passare quell'altro ammalato Allora Devo chiamare l'esercito Per far passare la barella Largo, largo Forza, forza Commissario L'hanno promossa all'ordine pubblico Maresciallo Cugliese L'hanno promosso anche lei Avevano bisogno di rinforzi Sta per arrivare l'asseggio Il sindaco Dozza E così sono stato comandato qui A fare le compagnie E le avevo detto Commissario A quelli non importa niente Di trovare la verità La stavano usando Solo per i loro interessi politici Sono un poliziotto Maresciallo Guarda va Sindaco Sindaco Scusate commissario Anch'io Vi devo occupare dell'ordine pubblico Largo, largo Fate largo Baron Ci sono più fotografi qua Al tuo corso di Miss Italy Largo, largo Lasciate passare Lasciate libero il passaggio Lasciar passare Comissario Con tutti questi lampi dei fotografi Sembra il temporale Pugliese Che avete detto? Sembra un temporale Temporale Pugliese I lampi Ricorda In via delle oche Non era il temporale Che state dicendo commissario? Qui c'è un casino Altro che via delle oche Certo, certo Dio Che coglione che sono Altro che temporale Maresciallo Non era il temporale Ma quale temporale? Non mi sa Sì, come entrare? Eh, non so se siamo lì già aperte Aspetti che chiedo Signora Claudia Siamo aperte o no? Noi siamo sempre aperte E si accomodi Lì Adesso arriva la signora Grazie Ah, sei tu Vado Lawrence Ci penso io Il signore è per me Cosa vuoi? La verità La verità su cosa? Vuoi sapere come scopi? Voglio sapere cos'è successo In via delle oche In via delle oche domenica scorsa Non è successo niente In via delle oche domenica scorsa È successo qualcosa invece Qualcosa di talmente grosso Da costringere Antonio Abatino Ad ammazzare tre persone Qualcosa Che si poteva fotografare Dal retro del bordello Di via delle oche Con un flash E chi aveva alla stanza sul cortile Poteva anche pensare Che ci fosse il temporale Non è successo niente In via delle oche Sei in arresto Cosa? Ti arresto per reticenza Complicità in omicidio E contravvenzione Alle norme sul meretricio Se non mi racconti Cos'è successo in via delle oche Ti metto le manette Ti porto dentro così come sei Io Gli avevo detto Che quello era Troppo vecchio per certe cose E aveva anche l'aria Di non stare troppo bene Così pallido Io ce l'ho l'occhio Per certe cose Ma lui no Aveva sentito parlare Della Lisetta Gli piacevano i casini Di quinta categoria E gli piacevano le ragazzine E lui chi? Così Quando la Lisetta È venuta giù urlando Io Già lo sapevo Che era successo un guaio E lui era là In camera Morto stecchito Sul lettino della Lisetta Lui chi Tripolina Non lo devi dire tu Lui chi Claudia L'onorevole Orlandelli Casa e chiesa Come lo chiamavano Adesso mi fai chiudere Proprio adesso Che ci sono riuscita Cioè non lo so Claudia non dipende da me Io sono un poliziotto Sono solo un poliziotto Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle Oche Personaggi ed interpreti Della sesta puntata Commissario De Luca Claudio Moneta Maresciallo Pugliese Natale Ciravolo Dottor Scala Ruggero Dondi Claudia Tagliaferri Maria Eugenia D'Aquino Brigadiere Di Naccio Gian Mario Arringa Un brigadiere Matteo Carassini Dolores Alessia Spinelli Realizzazione tecnica e sonorizzazione Lara Persia Adattamento radiofonico e regia Di Alberto e Gianni Buscaglia Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle Oche Adattamento radiofonico e regia Di Alberto e Gianni Buscaglia Settima puntata Bologna Bologna 18 aprile 1948 Domenica sera Pertanto Si profila Per esso Il reato Di Omicidio Quale mandante Ed esecutore Improprio e in concorso con altri Dei delitti suddetti Nelle persone Di Hermes Anzi Ricciotti Hermes Piras Osvaldo Bianchi Lisa Detta Lisette La cosa contiene di tanto urgente questo rapporto commissario Dico tra poco chiudono i seggi e io mi devo occupare anche tra l'altro di ordine pubblico E la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità per i delitti di via delle oche Signor vicequestore Le sue ipotesi casomai le sue ipotesi su quei delitti commissario Non forse più che ipotesi Dottor D'Ambrogio E va bene va bene sentiamo come si sarebbero svolti questi fatti Allora domenica scorsa al 16 di via delle oche c'è stato un buio Un buio speciale Perché fosse tutto più sicuro e discreto la tenutaria della casa Claudia dagli afferri detta la tripolina Aveva fatto allontanare anche Ernest Ricciotti il serafino Simpatizzante comunista Ma lui l'aveva saputo lo stesso che quella sera sarebbe arrivato Un cliente particolare Il cavaliere Orlandelli Sì sì l'onorevole casa e chiesa E probabilmente l'aveva saputo proprio dalla Lisetta La ragazza minuta che l'onorevole veniva appositamente a cercare in quel casino di quinta categoria A 50 lire la semplice E perché la ragazza gliel'avrebbe riferito? Che rapporti c'erano tra i due? Oh non certo perché anche lei fosse una simpatizzante comunista Ma perché quella era un'ottima occasione per andarsene Sì lei e Hermes Presto sposi Come del resto diceva quella fotografia Strappata dalla camera di Hermes Ricciotti L'unica che il ragazzo aveva conservato E così secondo la sua ipotesi Il giovane con l'aiuto della sua fidanzata Lisetta Lisetta Ha messo in atto un tentativo di ricatto Appunto Gli bastava trovare un fotografo disponibile Che riprendesse l'onorevole Orlandelli mentre era in compagnia della Lisetta E chi? Meglio di Osvaldo Piras Fotografo da bordello E simpatizzante comunista anche lui Anche se più attaccato ai soldi che al partito Solo che l'onorevole casa e chiesa Muore d'infarto sul letto della Lisetta E a trattare è rimasto soltanto Abatino Antonio Pupillo e segretario tuttofare Dell'onorevole presidente del comitato civico Però Abatino è abituato più ad agire che a trattare Ma che sa, forse perché non aveva soldi O forse perché quelle fotografie con l'onorevole Orlandelli Avvolto nel plaid Morto e stichito a Bologna nel casino di Via delle Oche In una Roma Nel suo studio dietro Piazza del Gesù E quelle foto erano diventate Merce di scambio un po' troppo importante E così Abatino con la sua banda di squadristi Ha cominciato ad ammazzare Uno per uno Tutti testimoni di quell'affare Finché non è riuscito a mettere le mani sulle fotografie Sì, sì, ricostruzione suggestiva Vice commissario De Luca E però ci vogliono dei riscontri oggettivi Per supportare le sue tesi Ma per l'ultima parte devo ammettere che si tratta ancora Sì, di una mia ipotesi Anche se vicina ad una ragionevole certezza Come un'altra ipotesi così certa E che la tenutaria del bordello non sapesse nulla del recato E tantomeno degli omicidi E che abbia soltanto approfittato della situazione Ospitando un personaggio eccellente come l'onorevole Orlandelli Per questo come chiedo nel mio rapporto Per Claudia Tagliaferri Si profilano unicamente i reati di complicità in occultamento di cadavere E quello di mancata denuncia di decesso In base alle norme del testo unico di pubblica sicurezza Titolo settimo del meretricio Per Antonio Abatino Sollecito invece un mandato d'arresto Quale mandante è esecutore in proprio e in concorso con altri dei delitti sopradescritti E il reato di favoreggiamento Per il vicequestore Dottor D'Ambrogio E... Sarebbe a dire Commissario Sarebbe a dire che Piras era dal 29 che faceva l'informatore per l'ovra E dal 47 che lo faceva per il dirigente della politica Vale a dire per lei Dottor D'Ambrogio Così mentre Hermes Ricciotti trattava con Abatino E si disperava Per il tradimento del fotografo Piras era venuto a raccontarle Cos'era successo all'onorevole Proprio sotto le elezioni Lei pensò di sistemare tutto per bene Chiudendo la bocca alla tripolina con il passaggio Dalla casa di quinta categoria di via dalle oche Al casino di lusso Di via dell'orso E sparpagliando le sue ragazze in tutta Italia Con la consegna di tenere la bocca cucita Soltanto che quel fanatico di Abatino E' arrivato prima Prima che Piras Le consegnasse le fotografie Ma non posso dare tutti i torti ad Abatino Perché senza quelle fotografie Era già in mezzo a una strada Lo sbaglio Dottor D'Ambrogio Ma dipende Sa che è da quando è arrivato in questa sede Che lei sbaglia in continuazione Commissario Ma c'è sempre tempo a rimediare Cosa intende fare Dottor De Luca? Non sono dottore Cosa intende fare Vice commissario Aggiunto De Luca? Proseguire le indagini Andare direttamente dal magistrato E farmi affidare il caso Convocare le ragazze Della vecchia quindicina Di via dalle oche E farle parlare Chiedere l'autopsia del cadavere Dell'onorevole Orlandelli E un mandato di perquisizione Per la sede del comitato civico Di Antonio Abatino Perché mi gioco la testa Che quelle fotografie Tanto ambide Sono lì Lei se la sta giocando Sul serio La testa Vice commissario Aggiunto De Luca Professionalmente Parlando Intendo Io Non sono Abatino Sta cercando di intimidirmi Dottor D'Ambrogio Ma per carità Intimidirla Ma io non intimidisco nessuno Io mi sto semplicemente Consultando Con un mio valente Sottoposto Sulla eventualità Di seguire una certa strada In un caso Molto Molto complicato Perché quello che lei definisce Così presuntuosamente Certezze Sono soltanto delle ipotesi Peggio Delle illazioni E su cosa si basano Le illazioni contenute Nel suo rapporto Vice commissario Aggiunto De Luca Sulle confidenze Di una prostituta Che non mancherò Di verbalizzare Al momento opportuno Una prostituta Una prostituta Sa di che cosa ha bisogno Questo paese Commissario Di stabilità Questo paese Ha bisogno Di ricostruire E non di distruggere E l'hanno capito Anche gli altri Questo paese Ha bisogno Di rispettabilità Di considerazione internazionale Di investimenti Dei dollari Del generale Marshall Del patto atlantico Di ordine Di legge Che è la stessa cosa Per me no Io sono un poliziotto Senta Chiudiamo questo colloquio Commissario Lei naturalmente può inoltrare Le deduzioni Di cui mi ha così correttamente informato Direttamente al magistrato Ma io le posso assicurare In cuor suo Lei certamente lo sa Che resteranno Lettera morte Oppure Se preferisce Può inoltrare il suo rapporto Seguendo le vie gerarchiche Al suo Diretto superiore Che sarebbe Io Io Vede Proprio in questi giorni Stavo riordinando Le pratiche del personale Quando per caso Mi sono imbattuto Nella sua Vice commissaria Senta qua Cosa ho trovato Allora Alto commissariato Aggiunto per l'epurazione Scheda personale Del dottor De Luca Eccetera 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 E poi ci sono le domande E' stato iscritto Al partito nazionale fascista Sì Beh Naturalmente Lui eravamo tutti No Squadrista No Marcia su Roma No Beh certo E' troppo giovane Per essere stato Un fascista Della prima ora Ha ricoperto Una delle seguenti cariche No 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 Ha fatto parte Dell'ovra No Tutti no Bravo Bravo De Luca Del resto lei Era soltanto un poliziotto Però Vede E' qui Alla domanda 32 Che iniziano i problemi Ha aderito Al partito Repubblicano fascista Ecco vede Lei qui Non ha risposto C'è lo spazio bianco E non ha risposto A niente Che riguardasse Il periodo Della Repubblica Di Salò Ora si tratterà Sicuramente Di una dimenticanza E noi Non avremo motivo Di dubitare Delle risposte Che volesse darci In merito Se non fosse Per questo foglietto Vede Questo E' un documento Autentico Del comitato Di liberazione nazionale Alta Italia Come può ben vedere Redatto Nei giorni Immediatamente Successivi Alla liberazione Come può Lei stesso Verificare Questo foglietto Contiene accuse Molto gravi Non è vero Io sono sicuro Che lei Non è direttamente Responsabile Dei fatti Attribuiti Al suo ufficio Tuttavia La sua Resta Una posizione Difficile Se non sbaglio Il suo comandante Venne processato E condannato a morte Alla fine della guerra Sì sì Certo Quei tempi Oramai Sono finiti Grazie a Dio E anche Quegli eccessi Di rigore Credo che lei Adesso se la caderebbe Con una condanna Poi abbastanza lieve Anche se Sicuramente Verrebbe immediatamente Espulso Dalla polizia No no Non c'è niente di vero Io Non ho mai particolare Va bene Va bene Va bene Ora può andare Vice commissario De Luca E Il caso Ah Sì Questo foglietto Questo documento Che la riguarda Me lo lascio In consegna Così Potrà rifletterci Sopra Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle Oche Personaggi ed interpreti della settima puntata Commissario De Luca Claudio Moneta D'Ambrogio Vicequestore Paolo Bessegato Realizzazione tecnica e sonorizzazione Lara Persia Adattamento radiofonico e regia Di Alberto e Gianni Buscaglia Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle Oche Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia Ottava ed ultima puntata Bologna 14 luglio 1948 Mercoledì Il Fermato Ah Questa macchina che vecchia come Maresciallo Pugliese Hanno sparato a Togliati Uè non scherziamo Bartolini Mezz'ora fa a Roma Uno studente ha sparato a Togliati Mentre usciva da Montecitorio Oh maronna mia È morto Non lo so Il questore ci vuole tutti immediatamente Qui scoppia la rivoluzione E allora andiamo Muoviamoci Andiamo Andiamo Commissario De Luca Sì Hanno sparato a Togliati Tutti nella sala riunione Il questore ci vuole tutti immediatamente Devo proprio esserci anch'io Ho la testa che mi scoppia Ho la nausea Infatti tenete la faccia che fa scifo Commissario Ma il questore ha detto tutti 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 Il ministro dell'interno Scelba Ha diramato tassative disposizioni Per impedire qualunque dimostrazione Di qualunque genere Ripeto Tassative disposizioni Signori per favore Per favore Lasciate parlare il dottor Giordano La CGL ha proclamato lo sciopero generale A Genova i dimostranti Stanno disarmando polizia e carabinieri Ci sono disordini a Torino e Milano Qui a Bologna Piazza Maggiore Si sta affollando La città è in fermento Per cortesia Tutti i funzionari E i sotto ufficiali Sono comandati in servizio di ordine pubblico E' importante non perdere la testa Usare le armi solo se necessario Ma mi raccomando Non perdete la testa Non perdete la testa Calma 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 Come siamo comandati, Marisciallo? A Via del Pozzo Dobbiamo rinforzare un presidio davanti a una fabbrica Che non ha chiuso E adesso è assediata dai comunisti Che dite, commissario? Se quello muore Scoppia la rivoluzione? No, non si può fare la rivoluzione in Italia Ci sono i marines americani pronti a sbarcare a Livorno E questo lo sanno anche i comunisti Eh sì, però sono gazzi, eh Dico per noi Stamattina al Sontorsola hanno portato 17 agenti feriti E si dice che già abbiano arrestato 200 persone Ah Hanno dato fuoco anche alla sede dell'uomo qualunque E hanno devastato le sedi dei monarchici e dell'MSI Ma chi gli salta in mente di sparare proprio a Togliatti A questo pallante? E ha pure studiato in seminario Anche Antonio Abbatino ha studiato dai preti Quello proprio non ve lo togliete dalla testa, eh commissario? No, non me lo dimentico Ah, sapete Adesso non è più segretario del comitato civico A vero a me? Eh, adesso ha un ufficio in centro E non si sa cosa faccia esattamente Però ha ancora il magazzino Con i cani e un uomo sempre di guardia Ma io sono convinto che lì ci tiene ancora le fotografie Sì, lì, lì In via del porto E la cassaforte a muri Ah, non state a farvi sangue cattivo, commissario Noi il nostro dovere lo abbiamo fatto No, che non l'abbiamo fatto Il nostro dovere, Pugliese Quello lì non è in galera Non è in galera Maressallo, siamo arrivati Ma che è stato? Quel botto arrivava da via del porto Proprio qua dietro Che faccio, maressallo? Che fai? Hai detto via del porto, Bartolini? Precisamente, commissario Siamo vicini al comitato civico dell'Abbatino, Pugliese Dobbiamo presidiarlo, no? Potrebbe essere un obiettivo dei comunisti Commissario, voi siete mazzi No, Pugliese, io sono un poliziotto E sono nel pieno esercizio delle mie funzioni Qui c'è un possibile obiettivo E io voglio arrivarci prima che possa essere attaccato Quello che trovo dopo è a far rire Eh, sperate di passare a liscia, commissario Ecco Venga, cosa pensavate, commissario? Di trovarci un comunista qua dentro? No Però ho trovato una cassaforte Eh, magari è quella che cercate, ma è chiusa Ma già, il problema è come aprirla Trovare cioè un modo legale per farla aprire Sì, perché io sento che lì dentro ci sono le fotografie Che fino adesso hanno tenuto a galla Abatino E chissà cosa ci sarà dentro queste casse Bartolini Apri queste casse Subito, maresciallo Ecco Ecco Arli, maresciallo Eh, fucili Moschetti Tutti belli unti e moderni E con la fiamma dei carabinieri stampata sul calcio E quella roba Quella roba l'ha incartata in quel modo L'esplosivo C'è da armare un piccolo esercito clandestino Csss, commissario Che c'è? Venite a sentire vicino a questa porta Venite di qua, di qua Mi pare di sentire delle voci Pugliese Con una spallata questa porta va giù Questa porta si apre da solo, commissà Abbatino Antonio Giù il telefono o sparo Come vuole, commissario Vogliono lei Al telefono Vogliono me Ma come vogliono me? Chi è? E' il questore Giordano Ecco Per lei Pugliese lo tenga d'occhio Bene E le mani alzate Pronto Commissario De Luca Sono Giordano Commissario, mi sente? Sì, signor questore La sento Il dottore Abbatino Mi ha appena chiamato per costituirsi Si autoaccusa di essere il mandante degli omicidi di tre mesi fa E quelli su cui lei del resto ha insistito con tanto lodevole zelo Mi sente, commissario? La sento, signor questore Bene Allora, lascio ad altro momento i complimenti del caso Adesso lei ha l'ordine di arrestare il dottore Abbatino E di tradurlo qui in questura Dove sarà preso in consegna dall'ufficio competente Mi ha inteso, commissario? Sì, sì, ma qui c'è un magazzino di casse piene di armi Al tempo, commissario, al tempo Le indagini adesso passano al dottor Bonaga alla omicidi Il suo compito è portare qui il reo con la massima discrezione possibile Poi sarà suo compito fare un rapporto adeguato La situazione è ormai sotto controllo Ma ci vuole prudenza, commissario De Luca Prudenza Mi fate male Se non fai il bravo Abbati Sulla cipi ci arrivi con una zappa sola Perché l'altra te la spezzo io Ha la massima discrezione dentro quest'ora E fate piano Se no stai zitto, le manette te le metto anche sulla bocca Sarò fuori in un anno, commissario Come cipico Monsignor Cipico è un truffatore Abbati Tu sei un assassino È un delitto politico Sta zitto Maturato in un momento particolare Darò la colpa a Matteucci, quell'idiota volato dal tetto E poi ho delle conoscenze Non sapete neanche le conoscenze che ho Vedrai, vedrai poliziotto Questo è un paese che dimentica in fretta Ehi, commissario, commissario Vedete anche voi quel gruppo di scalmonati che ci viene incontro? Siamo arrivati alla jeep, Marisciano Facciamo finta di niente No, 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 no Questi ammazzano Sì, stai zitto Sono comunisti L'hanno saputo Ci hanno visto Questi mi linciano Che zitto Qui ci linciano tutti e tre Si fa come sai Ma non la pistola, Marisciano Bartali Maglia Giallo Bartali Maglia Giallo Chi è? Bartali Maglia Giallo Bartali Chi è? Sono i miei vigili Bartali Maglia Giallo Che ridico Bartali Maglia Giallo Che zitto Sarò fuori in sei mesi Sei mesi Cacca mia Comissario Tocca a voi In quest'ora vi aspetta A me mi hanno fatto Maresciallo Capo Ma hanno anche dato L'aumento di stipendio E adesso mi mandano in Sicilia A dare la caccia Al bandito Giuliano Sa come la chiamano in polizia? Promuovi E rimuovi Lo sapete anche voi, no? Mi dispiace E' colpa mia Lasciate stare Lasciate stare A voi è andata pure peggio Eh sì C'è il giudice istruttore Comunque Comissario E' il nostro caso L'abbiamo risolto Le manette Le abbiamo messa All'abbatino Già Le abbiamo messa Sì Beh Vi devo salutare Comissario Domani sera Devo stare a Palermo Buona fortuna Di cuore De Luca Davvero Di cuore Buona fortuna Anche a lei Pugliese Magari Magari vi promuovono anche a voi Comissario E vi mandano in Sicilia Magari Commissario De Luca Sono io Il questore l'attende Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle Oche Personaggi ed interpreti dell'ottava ed ultima puntata Commissario De Luca Claudio Moneta Maresciallo Pugliese Natale Ciravolo Questore Giordano Augusto Di Bono D'Ambrogio Vicequestore Paolo Bessegato Antonio Abatino Igor Horvat Brigadiere Bartolini Matteo Carassini Realizzazione tecnica e sonorizzazione Lara Persia Adattamento radioponico e regia Di Alberto e Gianni Buscaglia Produzione Francesca Giorzi La cosa contiene di tanto urgente questo rapporto, commissario? Dico tra poco, chiudo nei seggi e io mi devo occupare anche, tra l'altro, di ordine pubblico E la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità per i delitti di Via delle Oche, signor Vicequestore Le sue ipotesi, casomai, le sue ipotesi su quei delitti, commissario Non fosse più che ipotesi, dottor D'Ambrogio E va bene, va bene, sentiamo come si sarebbero svolti questi fatti Allora, domenica scorsa, al 16 di Via delle Oche, c'è stato un buio Un buio speciale Perché fosse tutto più sicuro e discreto, la tenutaria della casa, Claudia Tagliaferri, detta la Tripolina Aveva fatto allontanare anche Ernest Ricciotti, il serafino Simpatizzante comunista Ma lui l'aveva saputo lo stesso che quella sera sarebbe arrivato un cliente particolare Il Cavaliere Orlandelli Sì, sì, l'onorevole casa e chiesa E probabilmente l'aveva saputo proprio dalla Lisetta La ragazza minuta che l'onorevole veniva appositamente a cercare in quel casino di quinta categoria A 50 lire la semplice E perché la ragazza gliel'avrebbe riferito? Che rapporti c'erano tra i due? Non certo perché anche lei fosse una simpatizzante comunista Ma perché quella era un'ottima occasione per andarsene Sì, lei e Hermes Presto sposi Come del resto diceva quella fotografia Strappata dalla camera di Hermes Ricciotti L'unica che il ragazzo aveva conservato E così, secondo la sua ipotesi Il giovane con l'aiuto della sua fidanzata Lisetta Lisetta Ha messo in atto un tentativo di ricatta Appunto Gli bastava trovare un fotografo disponibile Che riprendesse l'onorevole Orlandelli Mentre era in compagnia della Lisetta E chi? Meglio di Osvaldo Piras Fotografo da bordello E simpatizzante comunista anche lui Anche se più attaccato ai soldi che al partito Solo che l'onorevole Casa e Chiesa Muore d'infarto sul letto della Lisetta E a trattare è rimasto soltanto Abattino Antonio Pupillo e segretario tuttofare Dell'onorevole presidente del comitato civico Però Abattino è abituato più ad agire Che a trattare Ma che sa Forse perché non aveva soldi O forse perché quelle fotografie Con l'onorevole Orlandelli Avvolto nel plaid Morto e stichito a Bologna Nel casino di Via delle Oche In una Roma Nel suo studio dietro Piazza del Gesù Ecco, le foto erano diventate Merce di scambio un po' troppo importante E così Abattino con la sua banda di squadristi Ha cominciato ad ammazzare Uno per uno Tutti i testimoni di quell'affare Finché non è riuscito a mettere le mani sulle fotografie Sì, sì Ricostruzione suggestiva Vice... Chieda a Marconi della politica E chieda a Sabatini della scientifica Di mostrargli i documenti filmati E anche lui dica che la mando io Sì E se vuole ai referti dell'autopsia Si rivolga a Cinelli Medicina legale Cinelli, sì Qui a Bologna siamo ancora forti in questura I nostri sono tutti a sua disposizione Commissario Miluca Sfrutti Sfrutti il fattore K Il fattore K? Il fattore communist Lo farò Lo farò, dottor Scala Eh, se io fossi all'omicidi Mi chiederei perché questo Matteucci Stava svaliggiando la casa di un compagno Invece di essere in strada Ad attaccare manifesti contro i comunisti Lei invece non se lo chiederebbe Facciamo così Io faccio di staccare Bonaga a Roma per un po' E intanto lei se lo chieda Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle Oche Personaggi ed interpreti della terza puntata Commissario De Luca Claudio Moneta Brigadiere di Naccio Gianmario Arringa Claudia Tagliaferri Maria e Eugenia D'Aquino Dottor Scala Ruggero Dondi Realizzazione tecnica e sonorizzazione Lara Persia Adattamento radioponico e regia Di Alberto e Gianni Buscaglia Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle Oche Adattamento radiofonico e regia Di Alberto e Gianni Buscaglia Quarta puntata Bologna 16 aprile 1948 Venerdì mattina E non si aspetta il cinema commissario E questo è l'ufficio reperti della scientifica E mica una sala prezzata E poi il film è muto Al cinema magari ci vado stasera Sabatini Adesso accontentiamoci del tuo film muto Commissà Aldo Sadella Danno noi siamo zingarelli Costale e olio L'ho visto con mia moglie E così mi fate due risate Dicevo così tanto per capire la situazione E decidere come comportarsi Il dottor D'Ambrogio Il vice questore Sta con la democrazia cristiana Senza tessera Perché come sapete ai poliziotti Non è permesso Ma lui è quello dell'ADC E' amico di quel sottosegretario giovane Che sta a Roma Quello bassetto, gobbo Con l'orecchia sventola Brutto assai Il capo di gabinetto del questore Il dottor Scala E' quello del PC E' uno dei pochi poliziotti Ex partigiani Che il ministro Scelba Non ha ancora assidurato Ma pure lui C'ha le spalle coperte a Roma Alle botteghe oscure E qui a Bologna E' amico del sindaco Doz Il questore invece non è niente Tira a campare Aspetta di vedere Chi vincerà le elezioni Un po' come tutti E Bonaga? Bonaga è un cretino Come un cretino? E fa quello che gli dicono di fare Se no non fa niente Tira a campare E chi gliel'ha detto Richiudere il caso Ricciotti? Chi lo sa D'Ambrogio Può essere pure Che l'ha pensata da solo La storia del suicidio Sta lì dove sta Perché è figlio d'arte Suo padre è il prefetto a Trapani Ma appena trovano qualcosa di meglio Lo tolgono di mezzo E a fare il capo della mobile Ci mettono qualcun altro E se non fate pazzie E' facile Che vi ci fanno a voi Come mi sa? Se non fate pazzie però Fugliese io Sono curioso di natura I misteri non mi piacciono E non so a lei Ma a me questo signore Che fa le acrobazie Per infilare la testa In una corda Mi dà un fastidio quasi fisico Dica un po' Pugliese Secondo lei sarebbe Una pazzia Andare dalla Tripolina Quella del bordello Di Via delle Occhie 16 E farle un paio di domande Su Eromes Ricciotti Per me si Per me si Come? Perché il mio dirigente Ha chiuso il caso E adesso non riguarda più Il mio ufficio Ma per voi Che siete della buon costume Fare qualche domanda Su un guardiano di casino Una tenutaria di casino Non è poi così strano Guarda E mica si tratta di aprire un'inchiesta Solo qualche domanda Solo qualche domanda Maresciallo Lo giuro Va bene Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle Occhie Personaggi ed interpreti Della prima puntata Commissario De Luca Claudio Moneta Maresciallo Pugliese Natale Ciravolo Armida Chetti Fusco Questore Giordano Augusto Di Bono D'Ambrogio Vicequestore Paolo Bessegato Dottor Scala Ruggero Dondi Brigadiere Caputo Riccardo Merli Realizzazione tecnica E sonorizzazione Lara Persia Adattamento radioponico E regia Di Venezia Sopra un abitino Colo Bois de Rose Cipria velluto Di Hollywood Peccato per i sandali Con la zeppa Che non sono di Ferragamo Se no sarei proprio Come nel figurino di Grazia Ogni tanto mi vesto anch'io Cosa crede? Ma prego Si accomodi Doveva rendere bene La casa di Via delle Ocche E se guarda meglio Vedrà che il vestito Me lo sono cucita da me E la stoffa Era di una tenda Che ho fatto tingere Ho notte di Venezia E il regalo Di uno studente Che ha preparato Un esame nel mio casino E Via dell'Orso È un regalo anche quello Siamo ancora chiusi Le ragazze della nuova quindicina Entrano domani Non sono qui per consumare Sono qui per fare domande E poi vedremo Se domani entreranno davvero Le ragazze nuove Le dispiace Se mi tolgo le scarpe Ho ragione Mi sono abituata alle ciabatte E sei a casa tua Già Anche lei Mi sembra Perché le tue ragazze Raccontano tutte la stessa cosa Chi le ha imbeccate Cosa c'entri tu Con questa storia Lo sai dove spendo I pochi soldi che ho Commissario? No Calze Calze di nylon I vestiti me li faccio da me Perché da ragazza Ho lavorato nella rivista Ho imparato anche a fare la sartina Ma le calze Mi tocca comprarmele Cosa c'entri tu Con questa storia? Ah Adoro le calze di nylon Ti dispiace se me le provo? Posso? Sono qui per fare domande Hai Hai mai sentito parlare Di un certo Abbattino Davvero è un anno Che non tochi una donna? Come mi stanno Queste calze Commissario? La tribolina Claudia Ti ho detto che non sono qui per Si dice sempre così Ma poi Non ti piaccio Commissario Ma certo che mi piaci Baciami Si 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 me la si Claudia Claudia Le cinque Oh buon Dio Ho dormito Ho dormito al casino Claudia Oh Dio Noccati Era giù Nero come un capello L'Ermes Te lo dico io Sentite commissario Io non ho mai avuto Una grande confidenza Con l'Ermes Ma da qualche giorno Parlava sempre Quando mi accompagnava La messa Sulla Vespa Si voltava indietro E mi faceva Non ha paura Guarda avanti Gli dicevo E lui Chi se ne frega E poi cantava Vi è retta a me commissario Io l'ho sentito bene L'Ermes L'altra sera Andava su e giù Per la stanza Come un animale in gabbia E a un certo punto Ha anche tirato una scarica Di pugni contro il muro L'ho anche chiamato Ma lui mi ha mandato A quel paese E poi ho sentito Che piangeva Ah dopo niente Perché quando finischi il turno Prendi il Luminal E dormo con un sasso Sentite me commissario Qualche giorno fa Mentre mi portava la novena Ermes mi ha detto Cati Presto vi lascio Mi sposo E apro una palestra a San Lazzaro E poi ha cantato Bandiera rossa Da qui a San Petronio Una vergogna commissario Si va bene E' stato il giorno dopo il temporale E te lo sei sognato il temporale No Sei te che hai la camera davanti Con le finestre chiuse E non sai neanche se piove O se nevita Che poi Signor commissario Anche se le avesse aperte Lei lo chiama Luminal Ma a casa mia Si chiama Morfina E a te che cognac Ti ronza nell'orecchio E ti fa vedere Ehi ragazze Andiamo pugliese Ho la testa che mi scoppia Ho bisogno di aria Grazie ragazze Per oggi abbiamo finito Siete riuscite a far venire Il mal di testa al commissario E gli porti un veramon Maréchal No no Fanni un veramon Per il commissario No 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 Grazie grazie signora Molto gentile Arrivederci Andiamo Notte lì Mentre a te Si un vignolino Con la confusione Il mal di testa È diventato insopportabile Quelli così si chiamano Commissario Casini E che pensate Penso a A un tizio che Un giorno È tutto euforico Per una cosa Che gli sta cambiando la vita E il giorno dopo No Dov'era quel giorno? E dove è stato Il giorno dopo? Insomma Domenica Dov'era? E chi lo sa Non riusciamo neanche a sapere Se c'era o no Il temporale Domenica Commissario Questo fonogramma Arriva da Pieve di Cento Provincia di Ferrat Dice Bianchi Lisa Detta Lisetta Non è statualmente reperibile Presso sua famiglia Ulteriori ricerche È statualmente impossibile Causa impegno personale Controllo territorio Prossime lezioni politiche Davanti il prossimo Pugliese Ah ecco Questo Questo arriva da Roma Dice che La G Dice che Brigadiere! Agli ordini commissario. Aiuti quella lettica a passare. C'è una donna anziana malata. La faccia portare dentro al seggio. Dietro, fate passare Viano. Viano, fate passare. La nonlina deve votare. Irelli? Lei dio una mano a quelle reclute e fate passare quell'altro ammalato. Allora, devo chiamare l'esercito per far passare la barella? Largo, largo! Forza, forza! Commissario, l'hanno promossa all'ordine pubblico. Maresciallo Pugliese. L'hanno promosso anche lei. Avevano bisogno di rinforzi. che sta per arrivare l'asseggio il sindaco Dozza e così sono stato comandato qui a farle compagnia. E le avevo detto, commissario, a quelli non importa niente di trovare la verità. La stavano usando solo per i loro interessi politici. Sono un poliziotto, maresciallo. Guarda qua, sindaco! Scusate, commissario, anch'io. Mi devo occupare dell'ordine pubblico. Largo, largo, fate largo! Baron, ci sono più fotografi qua che al concorso di Miss Italy. Largo, largo, lasciate passare! Lasciate libero il passaggio! Lascia passare! Ah, commissario, con tutti questi lampi dei fotografi, sembra il temporale. Pugliese, che avete detto? Sembra, sembra un temporale. Temporale, Pugliese, i lampi! Ricorda? No. Via delle oche! Non era il temporale! Ma che state dicendo, commissario? Qui c'è un casino, altro che via delle oche. Ma certo, certo! Dio, che coglione che sono! Altro che temporale, maresciallo! Non era il temporale! Ma quale temporale? Non mi sa! Siamo entrate! Non so se siamo lì già aperte. Aspetti che chiedo. Signora Claudia, siamo aperte o no? Noi siamo sempre aperte. Si accomodi, lì. Adesso arriva la signora. Grazie. Ah, sei tu. Vado, Lorenz, ci penso io. Il signore è per me. Cosa vuoi? La verità. La verità su cosa? Vuoi sapere come scopi? Voglio sapere cos'è successo in Via delle Ocche domenica scorsa. Non è successo niente in Via delle Ocche domenica scorsa. È successo qualcosa invece. Qualcosa di talmente grosso da costringere Antonio Abatino ad ammazzare tre persone. Qualcosa? Vendono i comunisti, commissario. Se vuole salutare il capo di gabinetto che mi sostituirà, dovrà aspettare che Scelba dopo l'elezione, una volta riconfermato ministro, se decida a nominarlo, ma intanto le consiglio di presentarsi al suo nuovo dirigente, commissario De Luca. E chi sarebbe il mio nuovo dirigente? Il dottor D'Ambrogio. Sta proprio nell'ufficio qui accanto. Il dottor D'Ambrogio. Brigadiere Agli ordini commissario Aiuti quella lettiga a passare C'è una donna anziara malata La faccia portare dentro al seggio Dietro fate passare Viano Viano fate passare la nonnina deve votare Mirelli Lei dio una mano a quelle reclute E fate passare quell'altro ammalato Allora devo chiamare l'esercito per far passare la barella Largo, largo Forza, forza Commissario L'hanno promossa all'ordine pubblico Maresciallo pugliese L'hanno promosso anche lei Avevano bisogno di rinforzi Sta per arrivare l'asseggio il sindaco Dozza E così sono stato comandato qui a fare le compagnie E le avevo detto commissario A quelli non importa niente di trovare la verità La stavano usando solo per i loro interessi politici Sono un poliziotto, maresciallo Guarda qua, sindaco Scusate commissario Vi devo occupare dell'ordine pubblico Largo, largo, fate largo Baron, ci sono più fotografi qua che al tuo corso di Miss Italia Largo, largo, lasciate largo Pugliese, lasciate libero il passaggio Lasciar passare Comissario, con tutti questi lampi dei fotografi Sembra il temporale Pugliese, che avete detto? Sembra un temporale Temporale, Pugliese, i lampi Ricorda, in via delle oche Non era il temporale Che state dicendo, commissario? Qui c'è un casino, altro che via delle oche Ma certo, certo Dio, che coglione che sono Altro che temporale, maresciallo Non era il temporale Ma quale temporale, non mi sa Scusate Non so se siamo di già aperte Aspetti che chiedo Signora Claudia, siamo aperte o no? Noi siamo sempre aperte Si accomodi, lì Adesso arriva la signora Grazie Per questo, come Permette, come chiedo nel mio rapporto Per Claudia Tagliaferri Si profilano unicamente i reati di complicità In occultamento di cadavere E quello di mancata denuncia di decesso In base alle norme del testo unico Di pubblica sicurezza Titolo settimo del meretricio, eccetera, eccetera Per Antonio Abatino Sollecito invece un mandato d'arresto Quale mandante è esecutore in proprio E in concorso con altri dei delitti sopradescritti E il reato di favoreggiamento Per il vicequestore, dottor D'Ambrogio E... sarebbe a dire... Commissario Sarebbe a dire che Piras era dal 29 Che faceva l'informatore per l'ovra E dal 47 che lo faceva per il dirigente della politica Vale a dire per lei, dottor D'Ambrogio Così, mentre Hermes Ricciotti trattava con Abatino E si disperava Per il tradimento del fotografo Piras era venuto a raccontarle Cos'era successo all'onorevole Proprio sotto le elezioni Lei pensò di sistemare tutto per bene Chiudendo la bocca alla tripolina Con il passaggio Dalla casa di quinta categoria di Via delle Oche Al casino di lusso Di Via dell'Orso E sparpagliando le sue ragazze in tutta Italia Con la consegna di tenere la bocca cucita Soltanto che quel fanatico di Abatino È arrivato prima Prima che Piras Le consegnasse le fotografie Ma non posso dare tutti i torti ad Abatino Perché senza quelle fotografie Era già mezzo a una strada Lo sbaglio, dottor D'Ambrogio Ma... dipende Sa che è da quando è arrivato in questa sede Che lei sbaglia in continuazione Commissario Ma c'è sempre tempo a rimediare Cosa intende fare, dottor De Luca? Non sono dottore Cosa intende fare, vice commissario aggiunto De Luca? Proseguire le indagini Andare direttamente dal magistrato E farmi affidare il caso Convocare le ragazze Della vecchia quindicina di Via delle Oche E farle parlare Chiedere l'autopsia del cadavere Dell'onorevole Orlandelli E un mandato di perquisizione Per la sede del comitato civico di Antonio Abatino Perché mi gioco la testa Che quelle fotografie tanto ambide sono lì Lei se la sta giocando sul serio la testa Vice commissario aggiunto De Luca Professionalmente parlando, intendo Io non sono l'abatino Sta cercando di intimidirmi, dottor D'Ambrogio? Oh, per carità Intimidirla Ma io non intimidisco nessuno Io mi sto semplicemente consultando Con un mio valente sottoposto Sulla eventualità Ti dispiace se me le provo? Posso? Sono qui per fare domande Hai mai sentito parlare di un certo Abatino Davvero è un anno che non tochi una donna? Come mi stanno queste calze, commissario? La tribolina Claudia, ti ho detto che non sono qui per... Si dice sempre così Ma poi... Non ti piaccio, commissario? Ma certo che mi piaci Baciami Sì Sei bella, sei Ma claudia Ma claudia Le cinque Oh, buon Dio Ho dormito al casino Claudia Oh, no, Dio Scusa Hai fatto paura Non sono abituata ad avere qualcuno nel letto Davvero? Volevo dire che non sono abituata a dormirci con qualcuno nel letto Vanno sempre via subito dopo L'avevo capito Non pensavo a quello Sei bella Grazie Non mi hai nemmeno dato il bacio del buongiorno Buongiorno Senti Senti, Claudia Sai che è bello sentirsi chiamare col proprio nome Come mai? Tu Non vuoi dire quando... Insomma, come è che... No, scusami, ho una domanda stupida, scusa No È che non me l'aspettavo da te È una domanda da parlante Parlante Da parlante? Ah A letto nei casini ci sono i teneroni Che vogliono le coccole come dalla moglie E ci sono gli speciali Che vogliono fare le cose strane Ci sono quelli che si innamorano E poi ci sono i parlanti Che dopo vogliono parlare Non mi sembrava uno così? Sono curioso di natura Ma non importa, lascia stare io Quando ero giovanissima facevo la subretta nella rivista Cioè, facevo la ballerina di fila Però promettevo bene Ho ballato con Vanda Osiris Ma mi hanno licenziato perché sono stata trovata a letto col capo comico Che era il suo fidanzato C'ero andata perché mi aveva promesso un regalo Chissà Forse ce l'ho sempre avuto di natura di fare la puttana Ma non importa Ah, se le... Ad agire, che a trattare Ah, che sa, forse perché non aveva soldi O forse perché quelle fotografie Con l'onorevole Orlandelli Avvolto nel Pleid Morto e stichito a Bologna Nel casino di Via delle Oche In una Roma Nel suo studio dietro Piazza del Gesù E quelle foto erano diventate Merce di scambio un po' troppo importante E così Abbatino con la sua banda di squadristi Ha cominciato ad ammazzare Uno per uno Tutti i testimoni di quell'affare Finché non è riuscito a mettere le mani sulle fotografie Sì, sì Ricostruzione suggestiva Vice commissario De Luca E però Ci vogliono dei riscontri oggettivi Per supportare le sue tesi Ma per l'ultima parte devo ammettere che si tratta ancora Sì, di una mia ipotesi Anche se Vicina ad una ragionevole certezza Come un'altra ipotesi così certa È che la tenutaria del bordello Non sapesse nulla del recato E tantomeno degli omicidi È che abbia soltanto approfittato della situazione Ospitando un personaggio eccellente Come l'onorevole Orlandelli Per questo come Permettete Come chiedo nel mio rapporto Per Claudia Tagliaferri Si profilano unicamente i reati di complicità In occultamento di cadavere E quello di mancata denuncia di decesso In base alle norme del testo unico di pubblica sicurezza Titolo settimo del meretricio eccetera eccetera Per Antonio Abatino Sollecito invece un mandato d'arresto Quale mandante è esecutore improprio E in concorso con altri Dei delitti sopradescritti E il reato di favoreggiamento Per il vicequestore Dottor D'Ambrogio E sarebbe a dire Commissario Sarebbe a dire che Piras era dal 29 Che faceva l'informatore per l'ovra E dal 47 che lo faceva per il dirigente della politica Vale a dire per lei Dottor D'Ambrogio Così mentre Hermes Ricciotti trattava con Abatino E si disperava Per il tradimento del fotografo Piras era venuto a raccontarle Cos'era successo all'onorevole Proprio sotto le elezioni Lei pensò di sistemare tutto per bene Chiudendo la bocca alla tripolina Con il passaggio Dalla casa di quinta categoria Di Via delle Oche Al casino di lusso Di Via dell'Orso E sparpagliando le sue ragazze in tutta Italia Con la consegna di tenere la bocca cucita Soltanto che quel fanatico di Abatino È arrivato prima Prima che Piras Le consegnasse le fotografie Ma non posso dare tutti i torti ad Abatino Perché senza quelle fotografie Era già in mezzo a una strada Lo sbaglio Dottor D'Ambrogio Dipende Sa che è da quando è arrivato in questa sede Che lei sbaglia Mettere su famiglia Nella notte invece non posso dire niente Poco, poco Commissario Ho visto anche lei Dove è la stanza del povero Hermes E chi lo poteva sentire da qua Eh certo Ah no Aspetti Forse Forse l'Ivonne Che tiene la camera attaccata al muro della torretta Mo' gliela chiamo Ivonne Ma avete chiamato signor? Eh Ivonne No Sono la Cati Montuschi Carmelina Commissario Cati Di bene al commissario Dell'Hermes Oddio che disgrazia Sono ancora tutta scombussolata Povero ragazzo E chi se l'aspettava Sono qui signora Mi ha chiamato? Eh Fanny No Non sono la Fanny commissario Sono l'Ivonne Anconelli Yvonne Dette Gigi E con l'accento E con la gialla francese Sa mia madre era parigi Yvonne Yvonne Digli bene di Hermes Al commissario Oh dottore Preferisce forse un caffè? Ma no Io lo faccio fare Fanny Basta basta Non voglio niente Grazie Non voglio niente Voglio solo sapere Com'era questo Hermes Eh No Se era preoccupato Se era spaventato Euforico Non so Se era arrabbiato con qualcuno Se l'avete visto Su o giù Di morale Su Giù Era su Come avete detto voi dottore E' euforico Moccati Era giù Nero come un capello l'Hermes Te lo dico io Sentite commissario Io non ho mai avuto Una grande confidenza Con l'Hermes Ma da qualche giorno Parlava sempre Quando mi accompagnava La messa sulla Vespa Si voltava indietro E mi faceva una paura Guarda avanti Gli dicevo E lui Chi se ne frega E poi cantava Diretta a me commissario Io l'ho sentito bene l'Hermes L'altra sera Andava su e giù Per la stanza Come un animale in gabbia E a un certo punto Ha anche tirato Una scarica Di pugni contro il muro L'ho anche chiamato Ma lui mi ha mandato A quel paese E poi ho sentito E poi ho sentito che piangeva Dopo niente Perché quando finisci il turno Prendo il luminal E dormo con un sasso Sentite me commissario Qualche giorno fa Mentre mi portava la novena Hermes mi ha detto Cati Presto vi lascio Mi sposo E apro una palestra San Lazzaro E poi ha cantato Bandiera rossa Da qui a San Petronio Una vergogna commissario Si va bene E' stato il giorno dopo il temporale E te lo sei sognato il temporale No Sei te che hai la camera davanti Con le finestre chiuse E non sai neanche Se piove o se medica Che poi Signor commissario Anche se le avesse aperte Lei lo chiama luminal Ma a casa mia Si chiama morfina E a te che cognac Ti ronza nell'orecchio E ti fa vedere Ehi ragazze Andiamo pugliese Ho la testa che mi scoppia Ho bisogno di aria Grazie ragazze Per oggi abbiamo finito Siete riuscite a far venire Il mal di testa al commissario E gli porti un veramon Ma il resciallo No no Fanni Un veramon per il commissario No 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 Grazie grazie signora Molto gentile Arrivederci Andiamo Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle Oche Adattamento radiofonico e regia Di Alberto e Gianni Buscaglia Seconda puntata Bologna 14 aprile 1948 Mercoledì Tramonto Via delle Oche 16 E questa è la casa della tribolina Come sa? Il campanello pugliese Il campanello? Quale campanello? Ah il campanello E non c'è neppure il campanello Il tuo casino E allora bussate Maresciallo Avete visto Come sa? Là sulla colonna del portico Cosa? Quel manifesto L'istato a lutto L'onorevole Goffredo Orlandelli Cavaliere ufficiale Avvocato Dottore Ah certo che mettere La morterina Dell'onorevole Tutto casa e chiese In via delle Oche Suora quasi come una bestemmia E fa pure pandanco Il cartello appeso Sulla casa della tribolina Eh Abbiamo la ferrarese Eh forse quello È più adatto all'ambiente Siamo chiusi Chi è? Vice commissario De Luca Squadra buon costume Un momento Chiamo la signora Eh commissario Ma che Tengono una creatura Dentro al bordello Siamo chiusi Stiamo facendo le pulizie E le fate di sera le pulizie? Cambio della quindicina Intanto che arrivano le nuove ragazze La signorina offende la decenza Non si accoglie la buon costume sottoveste Sono in casa mia E siamo chiusi Vent'anni che sono in polizia E non ho mai visto una metresse Che lascia sulla porta un commissario Io non lascio sulla porta nessuno La pubblica sicurezza Ha la facoltà di accedere Quando vuole Ai locali del meretricio Siete voi che state sulla porta Se volete entrate pure Non aspettavo altro Non importa maresciallo Solo un paio di domande Giusto per chiudere la pratica Allora Hermes Ricciotti È morto Sì lo sappiamo Si è impiccato E sappiamo anche questo Noi sappiamo un sacco di cose E ne vogliamo sapere di altre Allora Lei è la Tripolina vero? Vabbè Come fa di nome la signora Tripolina? Claudia E poi? Claudia Tripolina? No Tagliaferri Claudia In arte Tripolina Bene Allora la signora Tagliaferri Claudia In arte Tripolina Adesso mi dice Che tipo era questo Ricciotti Che gente frequentava E per quale motivo Secondo lei Si è ammazzato Ah e poi mi fa anche parlare con le ragazze Che lo conoscevano meglio Altrimenti io torno in questura Mi ripasso il titolo settimo Del testo unico di pubblica sicurezza Quello sul meretricio E vedrà che lo trovo E vedrà un modo per togliere la licenza Alla signora Tagliaferri Claudia In arte Tripolina Signorina Mette fuori gli ubriachi Insomma fa un po' il guardiano E a me se era uno che tirava di box Vedi dottor Là Sì Sopra lo stipetto Ci sono le foto appese del ragazzo Ah sì Già Qui è con i guantoni Polisportiva popolare Spartaco Qui aveva poco più di vent'anni In questa commissà È ritratto da partigiano Sul cofano di una 1100 Davanti a un carro armato americano E in questa qua È a bordo di una lambretta Questa foto è stata strappata È rimasto È rimasto un angolo Si vede soltanto il piede di una donna Sì In un sandalo con la zeppa di sughero Lei Lei come fa di nome signor? Io Io sarebbe Conti Evelina Marescial Mettete pure Armida Che è dal 1920 Che mi chiamano così Comunque no 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 Non me l'aspettavo una cosa del genere Era così contento il povero Ermesse in questi giorni E una sera M'era pure tornato ubriaco È stato quando c'era Il temporale Cos'era? Domenica? Siete sicura? E... Io mica me lo ricordo il temporale Eh sono sicura sì Le finestre davanti Quelle sulla strada Devo tenerle chiuse per l'ingi Ma... Ma l'atrio Lo tengo che da sul dietro E... E da lì si vedevano i lampi E... La Cati è... È tanto devota alla Madonna E così Ce la portava Ermesse a dire La novena in San Petronio Con la Vespa Anche se politicamente Politicamente Ermes Stava con i comunisti Io non so quali sono le vostre idee Ma io ve l'ho detto Simpatizzava Sì va bene Si guardi attorno signora È tutto in ordine? Non so Sembra che ci sia qualcosa di diverso dal solito nella stanza A me? No No Mi pare di no dottore È tutto in ordine Comissà ma Ma perché queste domande? Che cercate? Segni di lotta marescello Segni di lotta? Sì A me sembra che sia tutto chiaro È tutto chiaro Guardi qui marescello Tra lo scapello sul quale dovrebbe essere salito per impiccarsi E i piedi C'è almeno una spanna di vuoto Eh già Che un impiccato si allunghi a stare appeso è normale Ma che si accorci non l'ho mai sentito dire Gesù commissà Come sono contento che siete tornati Ora telefoni Questo si è ammazzato commissà Io avevo impressione Io non ce la faccio a guardare Devo chiamare la centrale Per far dire al magistrato che se la può prendere con calma Anche il dirigente dell'omicidio può fare a meno di venire Pugliese Pugliese Vorrei fare una domanda alla signora La faccio entrare Signora Prego entrate Oddio 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 che impressione Vediamo come risponde alla mia sollecitazione Ma che sta facendo tutto? Lo picchia? No no Controllo il rigor mortis Vede signora Ed è la mano È tornata morbida E questo fa pensare che sia morto dalmeno ieri notte Chi era? Eh chi era? Eh 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 Ermes Ricciotti Ma non lavorava da me Stava dalla Dalla Tripolina Quattro numeri più in giù Eh di via delle Oche Eh al sedici Ah capisco E abitava qua perché La casa della Tripolina è così piccola Che ci ha Ci ha posto solo per il personale orizzontale Orizzontale? Eh insomma sì E puttane eh Con decenza parlando La Tripolina non Non ce l'ha una stanza in più per l'uomo L'uomo? Eh eh L'uomo L'uomo? Il Serafino Eh come lo chiamate voi? Ah È quello che dà una mano in casa Che accompagna in giro le ragazze Mette fuori gli ubriachi Insomma fa un po' il guardiano Eh Ermes era uno che Che tirava di box Vede dottor Là Sì Sopra lo stipetto Ci sono le foto appese del ragazzo Ah sì Già Qui è con i guantoni Polisportiva Popolare Spartaco Qui aveva poco più di vent'anni In questa comissà È ritratto da partigiano Sul cofano di una 1100 Davanti a un carro armato americano E in questa qua è a bordo di una lambretta Questa foto è stata strappata È rimasto È rimasto un angolo Si vede soltanto il piede di una donna Sì in un sandalo E una sera E una sera M'era pure tornato ubriaco È stato quando c'era il temporale Cos'era? Domenica? Siete sicura? E io Io mica me lo ricordo il temporale E sono sicura Sì Stia attento dottore Ora arriva anche quell'altro Ecco l'ha visto? Ah sì È lì dietro l'abbatino Quello è Matteucci Silvano Ex-hort ufficiale della decima massa Presidente per Rissa Per Cosse e tentato vicino Dopo la guerra faceva la borsa nera Ufficialmente sarebbe un ambulante Poi quest'ora ci fa riprendere di tutto Dalle processioni delle madonne pellegrine Ai comizi del fronte popolare Parità di condizioni dice Così si sente a posto con tutti Va bene È sufficiente Sabatini Grazie Grazie ancora Marconi Lasciateci soli un momento per favore Marconi vogliono stare soli Salute Grazie Allora maresciallo Cosa mi dice? Ehi Io Io tengo famiglia Come mi sa? Anch'io È questa la mia famiglia Ed è anche la sua Maresciallo Pugliese Noi siamo poliziotti No 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 Io sono un poliziotto Con una moglie e un figlio piccolo Da tirare su E con uno stipendio da maresciallo Di pubblica sicurezza Non me lo posso permettere Di essere trasferito in Sicilia A dare la caccia al bandito Giuliano No ma siamo coperti Pugliese Non succederà Il dottor Scala mi ha garantito Che ci tiene D'Ambrogio e Bonaga Fuori dalle scatole per un po' Mi siete messo con i comunisti Come sa? E guardate che quelli Le elezioni Le perdono Non mi sono messo con nessuno Io faccio il mio mestiere Che è quello di indagare su un delitto E continuare a farlo Finché non scopro chi l'ha commesso Perché? Credete che a Scala Gli importi qualcosa? Di sapere che ha ucciso Ricciotti e Piras? No 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 A Scala Questo affare interessa Perché interessa anche all'Abbatino Come sa? Siamo sotto elezione Questa è tutta politica Li stanno usando pure a voi Ma non me ne frega niente Se mi usano Io faccio il poliziotto E sto con chi mi permette Di fare il mio mestiere È per questo che stavate con i fascisti È così che siete finito Nell'investigativa della Muti Quando vi ho conosciuto Eravate nella lista Di quelli che dovevano essere Giustiziati dai partigiani Lo ricordate? Ah fanculo Maresciallo Pugliese Adesso sono nella polizia Della Repubblica Italiana E indago su un caso di omicidio Ci sta o non ci sta? Andate voi a fanculo Commissario De Luca Lo sapete che ci sto? Bene Pugliese Pugliese Allora Fonogrammi a tutte le questure E alle stazioni dei carabinieri interessate Con una lista di domande Da fare alle ex prostitute Di Via delle Oche Sì L'Armida e tutte le altre E voglio la Lisetta Dovunque sia Andiamo Pugliese Si ricomincia Beh Si ricomincia Prendete almeno qualcosa Dottore No Lo bevete un cinzadino Un vermuttino Fatti No no Non voglio niente Faccia venire piuttosto la ragazza Che ha scoperto il cadavere di Hermes Ricciotti Come preferisce commissario Ci sono le fotografie Che fino adesso Hanno tenuto a galla a batino E chissà cosa ci sarà Dentro queste casse Bartolini Sì Apri queste casse Subito maresciallo Ecco Armi maresciallo Eh Fucili Moschetti Tutti belli unti e moderni Eh E con la fiamma dei carabinieri stampata sul calcio E quella roba Quella roba l'ha incartata in quel modo Un esplosivo C'è da armare un piccolo esercito clandestino Shhh Commissario Che c'è Venite a sentire vicino a questa porta Venite di qua Mi pare di sentire delle voci Pugliese Con una spallata questa porta va giù Questa porta si apre da solo commissà Abbattino Antonio Giù il telefono sparo Come vuole commissario Vogliono lei Al telefono Vogliono me Ma come vogliono me Chi è? E' il questore Giordano Ecco Per lei Pugliese lo tenga d'occhio Bene E le mani alzate Pronto Commissario De Luca Sono Giordano Commissario mi sente? Sì signor questore La sento Il dottore Abbattino mi ha appena chiamato per costituirsi Si auto accusa di essere il mandante degli omicidi di tre mesi fa E quelli su cui lei del resto ha insistito con tanto lodevole zelo Mi sente commissario? La sento signor questore Bene Allora lascio ad altro momento i complimenti del caso Adesso lei ha l'ordine di arrestare il dottor Abbattino e di tradurlo qui in questura Dove sarà preso in consegna dall'ufficio competente Mi ha inteso commissario? Sì sì ma qui c'è un magazzino di casse piene di armi Al tempo commissario al tempo Le indagini adesso passano al dottor Bonaga alla omicidi Il suo compito è portare qui il reo con la massima discrezione possibile Poi sarà suo compito fare un rapporto adeguato La situazione è ormai sotto controllo ma ci vuole prudenza commissario De Luca Prudenza Mi fate male Se non fai il bravo Abbattino Sulla GP ci arrivi con una zappa sola Perché l'altra te la spezzo io Ha la massima discrezione dentro quest'ora E fate piano Se non stai zitto le manette te le metto anche sulla bocca Sarò fuori in un anno commissario Come cipico Monsignor cipico era un truffatore Abbattino Tu sei un assassino E' un delitto politico Ma zitto Maturato in un momento particolare Darò la colpa a Matteucci Quell'idiota volato dal tetto E poi ho delle conoscenze Non sapete neanche le conoscenze che ho Vedrai Vedrai poliziotto Questo è un paese che dimentica in fretta Ehi commissario Commissario Vedete anche voi quel gruppo di scalmanati che ci viene incontro Siamo arrivati alla gip marescia Non siamo finta di niente No 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 Questi ammazzano Sono comunisti L'hanno saputo Ce l'hanno visto Questi mi linciono C'è zitto Qui ci vinciono tutti e tre Si fa come sai Ma non la pistola ma non sono Vartali maglia giallo Vartali maglia giallo Sei mesi Sei mesi Commissario Commissario Può chiamarmi da un momento all'altro L'abbiamo risolto Le manette Le manette gliel'abbiamo messa all'abbatino Già Gliel'abbiamo messa Sì Vi devo salutare Commissario Domani sera devo stare a Palermo Buona fortuna Di cuore De Luca Davvero Di cuore Buona fortuna Buona fortuna anche a lei Pugliese Magari Magari vi promuovono anche a voi Commissario E vi mandano in Sicilia Magari Commissario De Luca Sono io Il questore l'attende Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle Oche Personaggi ed interpreti dell'ottava ed ultima puntata Commissario De Luca Claudio Moneta Maresciallo Pugliese Natale Ciravolo Questore Giordano Augusto Di Bono D'Ambrogio Vicequestore Paolo Bessegato Terza puntata Bologna 15 aprile 1948 Giovedì mattina Sì avanti Buongiorno commissario Ah di Naccio Che c'è? La pratica con le basse di passaggio commissario Cambio quindicina E allora? Ogni quindici giorni le prostitute cambiano bordello e quando partono devono avere un foglio sanitario Sì sì non lo so lo so intendo dire perché le dai a me cosa devo farci? Beh di regola le firma il dirigente le basse di passaggio sia in partenza che in arrivo Anche se il suo predecessore il dottor Carapia le faceva firmare tutte a me Ecco facciamo così anche noi allora firmale tu che mi sta bene Ecco però facciamo proprio come si faceva col dottor Carapia proprio uguale Perché come faceva il dottor Carapia? Eh beh non andava tanto per il sottile sa Chiudeva la pratica anche se non c'era proprio tutto Ecco qui per esempio di basse ne mancherebbe una Sì sì ma va bene facciamo così Insomma fai te Comandi signor commissario Allora archivio la pratica nel faldone del casotto interessato Cagliaferri Claudia via delle oche numero 16 Ho detto che archivio la pratica nel faldone No 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 cosa hai detto dopo? Nel faldone del casotto interessato Cagliaferri Claudia via delle oche Dinaccio portami tutta la documentazione della casa di via delle oche 16 Voglio controllare tutti i movimenti delle ragazze nelle ultime settimane Ecco commissario Fabri Fiorina detta Vanda destinazione Casa delle Rose Palermo Pistocchi Silvana detta Mimì destinazione L'Orientale a Venezia È normale che vengano sparpagliate così per tutta Italia? A volte succede Però non è normale che siano passate così di livello Il 16 di via delle oche è una quinta categoria Qui guardi la nitona è passata al Fiori Chieri di Milano È come dire che dalle 50 lire per la semplice di via delle oche È passata alle 300 di Milano dove ci sono dei pezzi di ragazze No io lo so perché ci sono stato per servizio signor commissario Sì sì non lo metto in dubbio Allora qual è la pratica che manca al brigadiere? Ecco Qua Bianchilisa detta Lisetta Nata a Pieve di Cento Frazioni Acquaviva Provincia di Ferrana La data di arrivo della Lisetta è di una settimana fa Sì E però anche le altre Tutta la quindicina è arrivata da meno di una settimana Brigadiere di Naccio Io ammetto di essere un novizio della buon costume Però che una quindicina dura 15 giorni Poi sarà suo compito fare un rapporto adeguato La situazione è ormai sotto controllo Ma ci vuole prudenza commissario De Luca Prudenza Mi fate male Se non fai il bravo Abadino Sulla jeep ci arrivi con una zappa sola Perché l'altra traspesso io Ha la massima discrezione dentro quest'ora E fate piano Se non stai zitto le manette te le metto anche sulla bocca Sarò fuori in un anno commissario Come Cipico Monsignor Cipico era un truffatore Abadino Tu sei un assassino E' un delitto politico Ma sta zitto Maturato in un momento particolare Darò la colpa a Matteucci Quell'idiota volato dal tetto E poi ho delle conoscenze Non sapete neanche le conoscenze che ho Vedrai Vedrai poliziotto Questo è un paese che dimentica in fretta Ehi commissario Commissario Vedete anche voi quel gruppo di scalmonati che ci viene incontro Siamo arrivati alla jeep marisciano Facciamo finta di niente No 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 Questi ammazzano Sono comunisti L'hanno saputo Ci hanno visto Questi mi linciono C'è zitto Qui ci linciono tutti e tre Che si fa commissario Ma non la pistola marisciano Mattali maglia giallo Mattali maglia giallo Perry Che sono difficili Artali maglia giallo Bethani maglia giallo Che ruido Bertali maglia giallo Sono fuori in sei mesi Sei mesi Commessa, tocca a voi In quest'ora vi aspetta A me mi hanno fatto maresciallo capo Ma hanno anche dato l'aumento di stipendio E adesso mi mandano in Sicilia A dare la caccia al bandito Giuliano Sa come la chiamano in polizia Promuovi e rimuovi Lo sapete anche voi, no? Mi dispiace Pugliese, è colpa mia Lasciate stare, lasciate stare A voi è andata pure peggio Eh sì C'è il giudice istruttore nell'ufficio di Giordano Dovrebbero chiamarmi da un momento all'altro Secondo lei Sì, secondo me ve lo fanno il processo, commessa Stamattina stava scritto dappertutto Anche su Carlino Funzionari di polizia sfuggito all'epurazione Eccetera, eccetera Prima o poi doveva succedere, credo Eh, può essere che non vi fanno niente, commessa Può essere pure che è solo un modo Per farvi tenere la bocca chiusa E secondo me ce la dovete tenere la bocca chiusa Comunque Commessa, il nostro caso l'abbiamo risolto Le manette gliele abbiamo messa all'abbatino Già, gliele abbiamo messa, sì Beh, vi devo... Faccio il mio mestiere Che è quello di indagare su un delitto E continuare a farlo finché non scopro chi l'ha commesso Perché? Credete che a scala gli importi qualcosa? Di sapere che ha ucciso Ricciotti e Piras, eh? A scala, questo affare interessa perché interessa anche all'abbatino Commissario, siamo sotto elezione, questa è tutta politica Li stanno usando pure a voi Non me ne frega niente se mi usano Io faccio il poliziotto E sto con chi mi permette di fare il mio mestiere È per questo che stavate con i fascisti È così che siete finito nell'investigativa della Muti Quando vi ho conosciuto eravate nella lista di quelli che dovevano essere giustiziati dai partigiani Ve lo ricordate? Affanculo, maresciallo pugliese Adesso sono nella polizia della Repubblica Italiana E indago su un caso di omicidio Ci sta o non ci sta? Andate voi affanculo, commissario De Luca Lo sapete che ci sto? Bene Pugliese, Pugliese Allora, fonogrammi a tutte le questure e alle stazioni dei carabinieri interessate Con una lista di domande da fare alle ex prostitute di Via delle Oche Sì Poi, voglio le schede informative di Hermes Ricciotti e degli altri Compreso questo Antonio Abbatino Bene Ah, e poi voglio tornare in Via delle Oche a risentire l'Armida e tutte le altre E voglio la Lisetta, dovunque sia Andiamo, Pugliese Eh, si ricomincia Eh, si ricomincia Prendete almeno qualcosa, dottore No Lo bevete un cinzadino Un vermuttino Fanni No, no, non voglio niente Faccia venire piuttosto la ragazza che Che ha scoperto il cadavere di Hermes Ricciotti Come preferisce, commissario Ecco Fanni Chiama la Cati e dille di venire da me Torniamo a noi, Armida, e veda di non innervosire il commissario Ci stava dicendo di questo Hermes Ricciotti Eh, sì, sì, era così Un bravo ragazzo Maresciallo Magari non poco sfortunato Perché aveva avuto anche dei guai con la questura Ma da un po' di tempo Aveva messo la testa a posto Diceva che voleva trovare un lavoro serio Sposarsi Mettere su famiglia Nella notte invece non posso dire niente Poco, poco, commissario Ho visto anche lei Dove è la stanza del povero Hermes E chi lo poteva sentire da qua? Ah, certo Ah, no, aspetti Forse, forse l'Ivonne Che tiene la camera attaccata al muro della torretta Ma gliela chiamo Ivonne Ma avete chiamato, signor? Eh, Ivonne? No, sono la Cati Montuschi Carmelina, commissario Cati Di bene al commissario dell'Hermes Oddio, che disgrazia Sono ancora tutta scombussolata Povero ragazzo E chi se lo aspettava? Sono qui, signora Ma chiamato? Eh, Fanny No, non sono la Fanny, commissario Sono l'Ivonne Ancora Niente Guardate un po' voi C'è solo una riga sottitata anagrafici Simpatizza per i partiti dell'ordine E basta Non è strano, commissario E chi saranno mai questi partiti dell'ordine? Antonio Abatino Sono io Vice commissario De Luca e maresciallo Pugliese Polizia Cosa posso fare per voi? Questo magazzino cos'è? È la sede del comitato civico di via Porto, numero 18 Di cui io sono segretario Non c'è un posto più comodo per parlare? Questa è la seconda volta che ci tengono sulla porta, commissario Prima quella puttana di via delle Oche E adesso qua È proprio vero che la polizia non conta più niente È permesso? Prego, maresciallo Abbiamo molto da fare oggi, commissario Se si tratta di una cosa breve Sono pronto a rispondere alle vostre domande Qui subito Se c'è bisogno di più tempo Sarà a mia cura venire al commissariato domani mattina Con il mio avvocato, naturalmente Abbiamo ragione di credere che uno dei suoi uomini Abbia ucciso un fotografo di nome Piras Cosa intende per uno dei miei uomini? Uno che lavora per lei Per il comitato civico, immagino Il suo nome? Matteucci Silvano Mai fatto parte del comitato civico Però lo conosce Mai sentito nominare? Eppure in un filmato della questura vi si vede assieme Sul palco di un comizio In piazza Maggiore C'è tanta gente nei comizi Soprattutto sui palchi Ehi Guardate qua Guardate cosa ho trovato Come sa? Cosa? Un moschetto pronto per l'uso È mio Lo tengo qui perché questa è una zona fuori mano E di notte la strada non è neanche illuminata Sei mesi fa i comunisti ci hanno attaccato e hanno bruciato tutto Sì ma questa è un'arma da guerra E non è legale Questa è una guerra Loro hanno mitra e casse di bombe a mano nascosti nelle cantine delle case del popolo Non avete visto cosa è successo in Cecoslovacchia? Non avete sentito togliatti? Se vincono loro Addio libertà Addio giustizia Addio fede Addio famiglia Sa cosa facciamo qui commissario? Noi facciamo azione di contropropaganda per combattere la strategia della menzogna Difendiamo la verità E difendiamo anche voi poliziotti Che ormai dovreste sapere da che parte stare Se volete sequestrare il fucile Fate pure E se volete arrestarmi per detenzione e lecità Prendo il soprabito e vengo con voi No Io voglio solo sapere se conoscevate Matteucci Silvano E se sapete perché ha tagliato la gola a un fotografo E poi gli ha messo sotto sopra la casa Non lo conoscevo Non lavorava per me Non ha mai fatto parte di questo comitato civico Volete sapere altro? Voi che state sulla porta Se volete entrate pure Non aspettavo altro Non importa maresciallo Solo un paio di domande Giusto per chiudere la pratica Allora Hermes Ricciotti È morto Sì lo sappiamo Si è impiccato E sappiamo anche questo Noi sappiamo un sacco di cose E ne vogliamo sapere di altre Allora Lei è la Tripolina vero? Vabbè Come fa di nome la signora Tripolina? Claudia E poi? Claudia Tripolina? No Tagliaferri Claudia In arte Tripolina Bene Allora la signora Tagliaferri Claudia In arte Tripolina Adesso mi dice che tipo era questo Ricciotti Che gente frequentava E per quale motivo secondo lei si è ammazzato Ah e poi mi fa anche parlare con le ragazze che lo conoscevano meglio Altrimenti io torno in questura Mi ripasso il titolo settimo del testo unico di pubblica sicurezza Quello sul meretricio E vedrà che lo trovo un modo per togliere la licenza Alla signora Tagliaferri Claudia In arte Tripolina Signorina Comissà Se permettete Vi do io uno spunto per arrestare questa qua Perché la vocina che abbiamo sentito prima Era quella di una minore E forse la signorina Tripolina non lo sa Che nei luoghi di meretricio Non sono ammessi minori di anni diciotto La lisetta ha diciotto anni compiuti Anche se ancora la voce di una bimba La conosco la legge io Sì sì va bene va bene va bene Davvero lei è nata a Tripoli? No Sono nata ad Alessandria Ma non quella d'Egitto Alessandria in Piemonte Mi chiamano Tripolina perché ho fatto il mestiere nelle colonie Per due anni durante la guerra Ma mi chiamavano così anche prima Per via della pelle Che è sempre stata un po' scura Che tipo era Ricciotti? È morto E va bene Domani mattina in questura Te e tutte le ragazze che conoscevano Ricciotti Compresa la Ferrarese Buonasera Permette maresciallo Che ci fai qui caputo? Il maresciallo la devo portare alla montagnola Hanno trovato uno con la gola tagliata Come sai io me ne devo andare Anzi ve lo chiedo come favore personale Venite pure voi Perché che è successo? Al parco della montagnola c'è un tizio con la gola tagliata E questo proprio non si può dire che sia un suicidio? A tetto alla bicicletta Come sai? È caduto nel prato insieme alla bici Maresciallo Pugliese Che cavolo è successo? È un morto Dottor Bonaga Un morto ammazzato Stia sulla ghiaia Che si bagna le scarpe Cristo Sono anche nuove Commissario lei conosce il dottor Bonaga Dirigente della squadra Vopi Sia delle oche Personaggi ed interpreti della quinta puntata Commissario De Luca Claudio Moneta Maresciallo Pugliese Natale Ciravolo Claudia Tagliaferri Maria Eugenia D'Aquino Antonio Abatino Igor Horvat Realizzazione tecnica e sonorizzazione Lara Persia Adattamento radiofonico e regia Di Alberto e Gianni Buscaglia Le inchieste del commissario De Luca Di Carlo Lucarelli Via delle oche Adattamento radiofonico e regia Di Alberto e Gianni Buscaglia Sesta puntata Bologna 17 aprile 1948 Sabato Mattino Mi scusi Commissario Prego prego Non pensavo di trovarla qui No no non si preoccupi Dimaccio E' che sono arrivato presto questa mattina Non riuscivo a dormire Solito mal di testa No volevo dire Non pensavo di trovarla in questo ufficio Ma perché? Perché L'hanno trasferita Non gliel'hanno detto So che l'hanno cercata ieri Ma come trasferito? Ma come trasferito? Dove? Non lo so Alla notturna credo Ma Non gliel'hanno detto? No Non me l'hanno detto Che c'è dottor De Luca? Mi hanno trasferito Dottor Scavara Lo so Alla notturna Ma non può lamentarsi E' rimasto a Bologna Mi hanno trasferito E' il caso Il caso? Sì Ah il caso Il caso non interessa più a nessuno Commissario De Luca Non sappiamo dove si andrebbe a finire Ed è stato deciso Che sollevare un polverone proprio adesso Sarebbe un errore politico Io non sono d'accordo Ma mi adeguo Mi dispiace Ma come sarebbe a dire Che non interessa a nessuno? A me interessa Interessa a noi Noi siamo poliziotti Lei è un poliziotto Io non lo sono più Non lo vede? Sto traslocando De Luca Torno a fare il politico Anche se preferirei tornare a fare il partigiano Ma ho l'impressione che i giochi siano già stati fatti Sa qual è il nostro difetto commissario? No Che vorremmo vincere Ma abbiamo paura di vincere